Grazie a tutti. Grazie a tutti. Niccolò Martinelli, Elena Mazzoni, Vito Meloni, Dimitri Palagi, Nello Patta, Gianluigi Pegolo, Giulia Pezzella, Rosa Rinaldi, Rita Scappinelli, Gianluca Schiavone, Raffaele Tecce, Ghia Valentini. Questa è la presidenza, vi prego di ratificarla. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 operazione me lo impedisce. Mi impedisce di essere fisicamente con voi, ma non di partecipare anche se da lontano, ma con la passione di un comunista ad un congresso che io considero molto importante. È infatti il primo congresso unitario dopo tanti anni di divisione. Unità come punto di forza, non certo come eliminazione delle differenze che esistono tra di noi e che sono la nostra ricchezza. Garavini diceva nella sua relazione al nostro primo congresso fondiamo un partito non per chiuderci in una casa come rifugio della nostra fede, ma per darci una struttura nella quale sono aperte tutte le porte e tutte le finestre. Penso che mai come oggi il partito abbia bisogno di essere unito per poter affrontare le battaglie politiche difficilissime che ci aspettano. Tornare ad essere noi, organizzatori delle lotte dei lavoratori, tornare ad essere da comunisti punto di riferimento per la costruzione di una società diversa, basata sulla giustizia sociale, sulla partecipazione, sull'inclusione, sulla solidarietà. Un partito che abbia la forza di combattere il pensiero unico rilagante e la rilagante cultura della realtà e di costruire la propria egemonia contro questa nuova barbarie. e nell'immediato la sfida delle elezioni politiche e il ritorno della nostra rappresentanza in Parlamento. Buon lavoro compagni e compagni, buon lavoro al nostro segretario un'uffizio asserbo che ha di fronte sfide difficili che sono convitte, saprà affrontare con l'intelligenza che un comunista che ha dimostrato in questo periodo in condizioni di crisi straordinarie. Buon lavoro al nostro partito, buon lavoro a rifondazione comunista. E chi scrive è, caro compagno, per noi davvero un maestro, Cito Masenna. Io credo che Cito ci stia seguendo con lo streaming. Salutiamo i compagni e i compagni che ci seguono online perché non hanno potuto venire e perché hanno avuto qualche difficoltà. Quindi salutiamo anche loro. Dopo questo bellissimo saluto di Cito Masenna, passo la parola a Marco Consor che ci legge un altro messaggio per noi davvero rilevante e importante. Sì, il messaggio viene dalla Gran Bretagna, a vedere il compagno anche Andolci. Cari amici e compagni, sono molto lieto di inviare un messaggio di supporto e spero che la vostra conferenza sia produttiva. I paesi dell'Europa occidentale condividono lo stesso problema principale. Il sistema economico sta affalendo, la gente soffre di disagio e di sicurezza, eppure la sinistra seria. La sinistra richiede grandi cambiamenti strutturali e divisa e manca di una forte presenza politica. Il capitalismo assistente volendo, tuttavia, l'idea del capitalismo rimane forte. Abbiamo ancora lezioni dalla nostra recente esperienza. I media mainstream, posseduti o controllati da chi ha il potere, da classe dirigente, non hanno raccontato questa storia perché è pericoloso. Mi propongo quindi un breve riassurdo. Il nostro partito laborista, tradizionalmente controllato da associati migratici di destra, come Tony Blair, aveva eletto un leader, Jeremy Corby, che è un uomo di sinistra. Lui e un suo collega, John McDonald, hanno sviluppato un programma che avrebbe ridotto il potere dei multinazionali. hanno proposto la nazionalizzazione di ferrovie, gas, elettricità, acqua, servizio costale ed eventualmente anche le industrie strategiche. Avrebbero riportato il nostro servizio sanitario nazionale e i suoi principi orecchiali. Un servizio interamente controllato e finanziato al pubblico, senza esternalizzazioni o subattuali. Hanno proposto pieni diritti sindacali per ogni lavoratore dal primo giorno di lavoro, investimenti pubblici nelle regioni disagiate, un vero salario di sussistenza e la fine della profonda pubertà per coloro che non possono lavorare. Gli investimenti pubblici nella green economy erano al centro della loro politica, così come la difesa dei diritti umani e delle relazioni internazionali. Ciò significava nessuna vendita di armi a regimi oppressivi o a quelli con politica di abbattere. Potete capire che questa era una minaccia per il potere dei diritti nazionali e perché le stati britannico erano preoccupate. Non potevano tollerare un'economia basata sul trasferimento del potere alla classe operale e la fine del sostegno automatico alla politica estera imperialista degli Stati Uniti. Durante questo periodo il partito laborista di Corbyn era diventato il più grande partito in Europa, con circa 600 mila metri. Nel 2017 ha quasi vinto le elezioni generali. Quello che ha seguito, visto oggi, sembra inevitabile. Corbyn, Mattona, i loro programmi e i loro sostenitori sono stati distrutti. Ci sono voluti quattro anni ed è stato un assassino politico e gli assassini erano alla resta del partito. Non c'era un giornale o un emittente mainstream, inclusa la BBC, che permettesse di rispondere il programma di Corbyn. Egli è stato accusato di essere troppo vecchio, incompetente, estremista, sostenitore del terrorismo, antipatriottico e responsabile di tutti i precedenti fallimenti dell'epoca che si proponeva a te riparare. Ma la cosa più avvelenata di tutti è stata quella di incoraggiare l'altisemitismo. Ovviamente non era vero. Corbyn è sempre stato un accanito oppositore di ogni razzismo, sostiene i diritti dei palestinesi e avrebbe riconosciuto la Palestina come stato indipendente. Gli attacchi a Corbyn sono stati così intensi che il suo nome è stato sempre legato alla parola antisemitismo e questo ha avuto l'effetto desiderato. Le persone senza esperienze di cosa sia l'antisemitismo avevano l'impressione che Corbyn fosse in qualche modo marcio. I laboristi hanno perso pesantemente le elezioni del 2019. Corbyn è stato sostituito e ora non vengono menzionati né lui nel programma di trasformazione proposta. È come se non fossero mai esistiti, come se la possibilità del cambiamento radicale non si fosse mai verificata. È un omaggio al potere sottile della borghesia. Siamo stati deluppati e non sappiamo nemmeno cosa sia successo. Un movimento che avrebbe dovuto ispirare la sinistra in tutta Europa è stato tenuto isolato e gramezzato. Quali sono le elezioni? Primo, l'unità della sinistra è possibile ma ha bisogno di disciplina e di mettere i bisogni della classe operaria al di sopra degli interessi settari. In secondo luogo, la classe dirigente è spietata. Su Genevi-Cormen sono state raccontate le borgie più filenose e le voce a sua difesa sono state messe a tacere e non sono state ascoltate come i maschi. Il più grande ostacolo al cambiamento radicale sono i socialdemocratici di destra. Fanno confluire, sabotandola, la richiesta popolare di riforma in un unico cieco politico. Propongono solo piccoli cambiamenti che non hanno effetto duraturo, ma poiché sono abituati al potere, non potevano né volevano rispettare i valori e i propositi democratici del partito lavorare su una vita diversa. Era chiaro che preferivano un governo di destra populista, guidato da Boris Johnson, a uno che mettesse al primo posto gli interessi della classe operaria. Alcuni di noi conoscono queste dure verità da una vita, eppure la sinistra continua a fare gli stessi errori. Dobbiamo unirci, non solo in un paese, ma in tutta Europa, ma anche insieme alla classe operaria, al di là dei nostri confini, dove lo sfruttamento consente di riempire di merci i nostri negozi e fornisce servizi come la logistica di cui tutti noi beneficiamo. È un viaggio difficile, ma un passo alla volta possiamo farcela, dobbiamo farcela. In bocca al lungo al congresso e solidarietà nella nostra. Che allora? Sono messaggi davvero importanti per quanto ci riguarda facendo questo nostro congresso nazionale qui a Chianciano, anche questo è un ritorno importante. Salutiamo le compagnie e compagnie della Federazione di Siena e diamo la parola a Lea Valentini che ne è segretaria per un saluto alle telemedizioni. Buonasera compagnie e compagnie. Mi do il benvenuto a nome di tutta la Federazione di Siena a Chianciano Terre. Chianciano è un luogo importante nella storia del nostro partito, sede di un progresso di svolta per il PRC e che spero possa essere, come dire, anche questo un augurio di un progresso di ripartenza. Chianciano Terre, come suggerisce il nome, è una famosa città termale, le due atto però sono ormai da anni privatizzate e su cui i futuri cittadini non hanno più voce in capitolo. E anche in questo bellissimo territorio, che è la provincia di Siena, dunque le contraddizioni del capitale incombono pesanti. La Valdigliana inoltre ha pagato più di altre zone le trasformazioni e gli esperimenti della politica sanitaria foscana. Sono state chiuse ben sei strutture sanitarie per costruire un unico ospedale, autola, con la promessa di un centro di eccellenza di ora invece continui tagli di servizi e di postiletto, hanno ridotto a un piccolo ospedale dove per avere una prestazione c'è da aspettare parecchi mesi. E tenete presente l'altro ospedale molto vicino, quello di Siena, vista da qua quasi un'ora in alto. La vicenda del Monte dei Paschi di Siena poi pesa sull'economia di tutta la provincia, soprattutto del sud di questa provincia, che da banca al controllo pubblico è ormai svendita, ha un'integrazione pesante, dipendente, e la chiusura e la verosifia ha fatto lo smembramento della banca stessa. Ultima, ma non per importanza, la questione dei rifiuti di tossici, che dà il polmone industriale della nostra provincia, la Valdezza, che ha visto l'ultimo in serie di incidenti, soltanto pochi mesi fa, quando a Poggi Bonsi, in prossimità del confine o alla provincia di Firenze, un incendio è scatenato in un impianto di smaltimento, ha riversato in aria, furono i benefici con grave incontro, anche per i terreni motivati circostanti e i vicini di Parreno. In questo senso la relazione di Arcat sembra escludere tanti ingenti, ma i recenti sviluppi, anche nelle indagini guardate, ci obbligano a non abbassare mai la guardia. Questi compagni e compagni sono solo alcune delle peculiari esigenze di questo territorio, dove saremo questo fine settimana, che si sommano ovviamente a quelle che ognuno di noi vive quotidianamente in ogni comune d'Italia, che il nostro partito denuncia e combatte da anni con forza, come la mancanza di investimenti adeguati alla scuola, ai servizi pubblici, la disoccupazione crescente con i centri di lavoro insostenibili, le progressive privatizzazioni. Le ragioni per cui combattere quindi sono tante e la necessità di un forte partito comunista è sempre più pressante e grande. Per cui, compagni e compagni, io termino questo breve saluto facendo a tutti e a tutte gli auguri di buon lavoro e buon successo. Grazie. Compagni e compagni, prima di dare la parola al segretario per la relazione, tanto voglio dire che abbiamo davvero molti ospiti, diverse, molte forze politiche, molti ospiti internazionali, abbiamo anche tanti contributi che vedremo nel video, da compagni e compagni che in altri territori stanno appunto lavorando nella stessa direzione, nella nostra stessa direzione. e mano a mano nel lavoro vedremo la ricchezza anche di contributi e di saluti che arrivano a questo nostro congresso. Dicevo che a noi corre lo facciamo, non solo come dito, ma anche i riti appunto sono a volte importanti. Vogliamo ricordare, senza fare un elenco, perché ce ne dimenticeremo sicuramente qualcuno, compagni e compagni che dallo scorso congresso non ci sono più. Penso e pensiamo a Lidia Mena Paci, a Stefania Mena Paci, alla Lidio Mena Caru, alla Sprema Cessunino, a Pietro Paolo, a Ferla. A dadbero a tutti le altre compagne e compagne Sono nominato più gli amori più noti, ma sappiamo anche nei territori, anche nei social, da volte apprendiamo appunto della scomparsa di compagni e compagni che hanno militato una vita nel nostro partito. Ed è per questo che il Vito, il Congresso, ha un minuto di silenzio e di ricordo di queste compagni e di questi compagni. Grazie. 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 Prendiamo quindi i nostri lavori, do la parola al segretario nazionale del Partito della Fondazione Comunista, Novizio Cervo, che lo aiuto a prepararmi dopo. Io dovrei essere, diciamo, insomma, al comment dovrei aver già dato. Per sicurezza mi sono iscritto ieri e ho aderito al programma dell'Istituto Finley di Cuba per la sperimentazione sui vaccini prodotti dalla nostra isola preferita. Diceva Fidel, ma quali sono i miracoli del capitalismo nel terzo mondo? Beh, la storia del Novecento è fatta, insomma, il socialismo non sempre ha funzionato bene. Ma se oggi Cuba è il paese del pianeta che ha il più alto numero di cittadini e cittadini vaccinati e vaccinati con un vaccino, anzi con più vaccini prodotti dalla propria industria pubblica, dai propri laboratori pubblici, dai propri scienziati, dai propri studenti, dai propri medici, beh, io credo che noi dobbiamo dire grazie a Fidel, alla rivoluzione cubana, che non cede e cominciare il nostro congresso tenendo presente che essere rivoluzionari non è uno sport facile. non significa vendere marchi di detersivo, significa invece saper sopravvivere e resistere in condizioni molto avverse. Grazie Cuba. Quando andai l'ospite di una delegazione della sinistra europea, ho detto per salutare i compagni e compagni dei partiti qui presenti o il collegamento della sinistra europea, incontrammo dirigenti del partito comunista cubano, in più occasioni mi cambiò un racconto, che a mio parere fa bene a noi, a quelli come noi. In questo racconto, poi l'ambasciatore qui presente che poi ci porterà il saluto amico Regna, se ricordo male, l'ambasciatore ricorda, in questo racconto succede che rivoluzionari cubani come sapete sbarcano, come sapete tra di loro c'era un nostro iscritto che vorrei ricordare, che non è più tra noi, l'unico italiano ad aver partecipato alla rivoluzione cubana e che quando tornò ormai pensionato in Italia si iscrisse al partito della fondazione comunista, si chiamava Gino Donè, che era un'azienda di figliaio, e migliore di numerazione degli stati libri, che attraverso la sua compagna cubana entrò in contatto con un gruppo di fidei del certo, preparava la rivoluzione. Ebbene, a un certo punto si ritrovarono nella sierra feriti, se ricordo bene, in sette con cinque fucili. Insomma, la situazione era abbastanza disperata, pare che Fidel cominciò a spiegare, bene, più è fatto, ce l'abbiamo fatto, possiamo andare avanti, e mi raccontavano che dietro Fidel, Raul, diceva, è logo, è fatto, ricorrete all'ambasciatore, è pazzo, è pazzo. Ecco, nelle condizioni più avverse impariamo dai compagni cubani che bisogna osare, 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 se ciò che usiamo lo riteniamo giusto, lo riteniamo essere la causa che merita il nostro impegno. Noi che siamo qui dentro oggi sicuramente siamo, o matte, o matte, perché apparteniamo a un partito che tenacemente da tredici anni cerca di costruire un'alternativa in questo paese dentro al bipolarismo, e che ha esistito per anni e anni, nonostante l'esclusione dei maspediani, e dal Parlamento, che ha tenuto d'uno. Io credo che per questo voglio fare innanzitutto un applauso a noi stessi, che abbiamo tantissimi difetti, ma che abbiamo un pregio, che in un paese come questo va considerato un tesoro. Non basta questo pregio, ma senza non si fa nessuna grande politica e non c'è nessun impegno ideale. Si chiama coerenza. Vorrei aprire il mio intervento con le parole di un compagno che non era iscritto alla rifondazione, anche se con noi ha fatto tantissime manifestazioni. Un compagno a un certo punto che in previsione disse che io smetto di andare a votare perché in Parlamento non c'è più nessuno che mi rappresenta, nessuno che sia effettivamente contro la guerra, per la sanità pubblica, eccetera. Lui non riusciremmo a riportarlo al voto perché la morte l'ha allontanato, ma io penso che solo con quel livello ideale e di coerenza pratica nei comportamenti si costruisce qualcosa. Questo compagno si chiamava Gino Strada. La sanità italiana è una crisi profonda perché si è cominciato a trasformare gli ospedali in aziende, perché l'interesse non è più la salute della persona o della collettività, ma il fatturato. Il non la sanità privata alla guerra o la richiesta di vaccini per tutti i popoli di Gino Strada non aveva nulla di estremista. Dovrebbe essere l'ABC di una sinistra degna di questo nome che in questo momento in Italia non c'è. Non si tratta di discutere di tattiche, ma di assumere l'altezza dei problemi che abbiamo di fronte a noi. La pandemia ha squadernato la catastrofe del capitalismo neoliberista, anzi ripetersi delle catastrofe, perché mentre ci fanno discutere di potesi complottistiche, il vaccino è partito dal laboratorio cinese, oppure sono stati gli americani che sono andati in Cina e hanno liberato il vaccino per termineggiarli cinesi e piedi scorrendo, quello di cui non si discute è che questo modello di sviluppo capitalistico, di devastazione ambientale, che ha prodotto le condizioni ampiamente previste da tutti gli scienziati per una pandemia di questo genere, così come sono le politiche neoliberiste di taglio della sanità pubblica che hanno prodotto una strage evitabile nei paesi più ricchi del pianeta. Quindi siamo di fronte sì a un nemico rappresentato da un virus, però siamo di fronte a un modello di sviluppo e oserei dire a un modo di produzione devastante che sembra l'unica cosa che non si possa mettere in discussione. Vedete, io trovo abbastanza repellente un mondo in cui bisogna scegliere tra Novax e Draghi. Io modestamente proporrei di organizzare un movimento e chiamarlo C-Marx, cioè un movimento di chi non è scientista perché è capace di criticare la presunta neutralità della scienza e l'uso capitalistico della scienza, ma anche un mondo in cui non ci sia spazio per la strumentalizzazione della stregoneria e delle parure per far andare avanti un'idea e un'ideologia dell'individualismo che è tipica del neoliberismo e che non ha nulla a che fare con le culture libertarie della sfise. Vorrei ringraziare tutte le compagnie e compagnie che hanno lavorato all'organizzazione di questo congresso, tutte le delegate e delegate, molti sono anche in ritardo e arriveranno più tardi, insomma non potranno condividere tutti i lavori, ma a me questo non stupisce perché il nostro è un partito di lavoratrici e lavoratori, il nostro è un partito che ha resistito senza avere più sostanzialmente una struttura funzionaliale, che si fonda sul lavoro volontario di centinaia e centinaia di militanti, un partito in cui base e vertice su quel giù sono la stessa cosa. Beh, vivere di questi stenti io credo che sia una delle pratiche più rifondative che abbiamo fatto in questi anni, perché quando torneremo a avere, se ci torneremo spero di sì, mezzi economici da spendere, spero che li spenderemo non per apparati elefantiaci, ma per costruire strumenti effettivamente al servizio delle classi subalterne per la lotta. E imparare a fare politica con le mani pulite, con la determinazione dei propri valori in un paese come questo è un patrimonio inestinabile che non dobbiamo assolutamente assolutamente sottovalutare. E farlo dopo una sequenza infinite di sconfitte come quella che abbiamo vissuto noi, in un'epoca tra l'altro avara di soddisfazioni anche dentro le mobilitazioni e le lotte, e ci dice che siamo, per dirla con i nostri compagni zapatisti, una sacca di resistenza piccola ma assai preziosa. Io sono contro la voglia di partito, chi mi conosce lo sa, la ritengo un vizio, uno dei principali difetti in questo momento nella nostra area politico-culturale. Ma un po' di orgoglio per quello che riusciamo miragolosamente ancora a fare, io credo che dobbiamo averlo e dobbiamo continuarlo. In questo congresso avremo la necessità di riflettere tra di noi su come trasformare questa passione in scelte efficaci sul piano della lotta, dell'organizzazione e della proposta politica. All'ultimo congresso, quando mi è eletto segretario, mi raccontai una storia che ultimo pochi giorni prima, tra l'altro, che fosse insomma un incontro facendo richiesto un ex alto funzionario dello Stato, mi chiese di che partito era, gli si di fondazione comunista e mi rispose, allora lei non è un politico, è un poeta. E io mi raccontai questa cosa perché non ho mai amato i porticanti e ho sempre amato i poeti. Beh, essere un partito in poeta non mi pare una cosa brutta. Questo aneddoto mi ha acquemotto la compagnia Lidia Menapace che quando mi venne abbracciare mi disse che sarebbe stato bene, mi raccomando, non perdiamo la posia che senza non si fa neanche politica. Questo aneddoto mi è tornato in mente leggendo Papa Francesco l'altro giorno che parlando di movimenti sociali ha definito gli attivisti di movimento poeti sociali. Io credo che noi, essendo militanti comunisti, dobbiamo cercare di essere al tempo stesso poeti politici e sociali. E questo compagno che viene dall'America Latina, lo scambiamo per Carlo Marx, non pensiamo che sia comunista, tutte fesserie, è semplicemente uno dei tanti cattolici che ha vissuto in un continente in cui gli Stati Uniti e gli Olingarchie hanno fatto massacri su massacri e dove il cristianesimo, il cattolicesimo dopo il concilio Pacificano II, poi sono diventati strumenti di liberazione dei popoli, hanno rincontrato il proprio popolo. In Italia a volte mi si dice ma voi fate troppi complimenti al Papa. Io sono andato due volte al foro di San Paolo in America Latina e l'immagine di Monsignor Oscar Artur Forvero viene proiettata insieme a quella di Salvador Allende, a quella di Fidel Castro e a quelli di tutte le rivoluzioni dell'America Latina e delle lotte per la democrazia in America Latina. Quindi senza mitizzare e senza nessuna subalternità culturale, perché col Papa continueremo a litigare su tante cose, l'apporto, diritti LGBTQI, ma tante cose ci mancherebbe, lui fa parte addirittura, insomma è un monarca e noi notoriamente siamo per l'abolizione delle monarchie. Però non vedere quello che si sta muovendo in quel mondo sarebbe completamente ottuso. Sarebbe ottuso e soprattutto non ci consentirebbe di cogliere che sul pianeta e anche nella società italiana ci sono altre e altre, che hanno altre culture politiche, hanno altre storie rispetto alla nostra ma che esprimono un desiderio di cambiamento, un impegno sociale motivato da istanze etiche molto forti che non può non essere un elemento con cui noi ci relazioniamo. Citavamo Lidia, prima è stato citato un grande compagno, abbiamo perso Eugenio Melandri, da segretario forse l'esperienza più forte che ho vissuto e quando fu invitato da Eugenio alla sua prima messa dopo decenni di sospensione. E francamente a me sembrava anche strana la sua insistenza perché ci fossi, perché mi telefono varie volte, ci devi essere, ci devi essere, ci devi essere. In quel suo rientro nella sua chiesa, dopo anni e anni di militanza, di democrazia proletaria, di fondazione comunista soprattutto dentro i movimenti e con gli ultimi della terra, a un certo punto non mi aveva avvisato, mi chiese di intervenire, o meglio mi mandò un altro compagno e sacerdote, non è molto caro, a dirmi, Maurizio vorremmo che ci fosse a questo punto il saluto di rifondazione comunista. E io lo portai perché Eugenio tra l'altro aveva spiegato la dirittura della sua storia, la coerenza della sua storia, spiegando il significato della parola compagno che viene da compagni. Ecco compagni e compagni, è all'altezza di questa storia, la storia di un missionario che da missionario denuncia il traffico di armi, per questo diventa scomodo per la politica, i governi e anche per le gerarchie, la sua storia la conoscete tutti. Questo compagno che poi sceglie di impegnarsi politicamente per portare avanti quella battaglia, quella lotta, un inciso se l'Unione Europea ha approvato la prima risoluzione tanti anni fa in cui si prendevano le distanze dall'embarco a Cuba, lo si deve proprio a quel compagno. Eugenio Melandri che allora era parlamentare europeo di democrazia proletaria. Ebbene, è questa forza morale che va conservata e quindi lo faccio qui oggi a nome di tutti. Eugenio incontrò con questo Papa, gli disse guardi, insomma non l'avrei detto così, non conosco il linguaggio delle chiese, insomma comunque gli raccontò che lui era stato, insomma che si era sospeso perché aveva fatto la scelta di candidarsi eccetera. E questo Papa gli rispose, non ricordo perché Giovanni lo ricorderà anche meglio di me, Alfio, che era una nuova, insomma aveva una decennale amicizia di Eugenio. E questo Papa gli disse, hai fatto bene. Ecco io a nome credo di laici e cattolici, non credenti, buddhisti, agnostici come me, di rifondazione comunista a Papa Francesco dico grazie per aver riacconto il compagno Eugenio Melandri. Alla sua figlia era il compagno Eugenio, dopo tutte le cerimonie religiose il compagno di Cotra ricordo che chiese ai padri saveriani, ma possiamo cantare l'internazionale? E l'anziano ex vescovo di non so quale località del Congo della Sierra Leone, che adesso ci sono diventati anche amici, ragazzi e che saluto da qui, rispose, beh io quando ero bambino in queste terre e si gridava, viva l'internazionale, al basso il re. Ecco, noi siamo i figli, le figlie di questa storia e di questa tradizione. Ed è per questo, compagni e compagni, io credo che dobbiamo avere la forza di affrontare la fase in cui ci troviamo con quella di latitudine che secondo questo compagno è venuto da lontano, non avere i poeti sociali, cioè la capacità di sognare insieme e di ricostruire le possibilità di sogni collettivi. Vedete, quando si usa la dalla loro sogno, si pensa alla pubblicità, al marketing, con cui la gente viene scemonita soprattutto, probabilmente molti decenni, e non solo nel nord ma anche nel sud del mondo. Invece a me torna in mente il Lenin che scriveva, bisogna sognare e dare forma concreta al sogno. E Karl Marx quando evocava il sogno di una cosa. Noi, comuniste e comunisti, io credo, non possiamo trovare solo in facili soluzioni organizzative la soluzione dei nostri problemi, ma dobbiamo avere la capacità di riproporre una visione nel ventunesimo secolo capace di ricostruire un sogno collettivo. Una volta un vecchio compagno della Marsica, del Fucino, uno di quelli che fece la lotta di Torlonia, contro i principi di Torlonia. Eravamo, stavamo raccontando, anzi lui ci stava raccontando a noi, le Cicchio di Celano nel 1950 quando fascisti e carabinieri spararono sui chiafoni organizzati dal Partito Comunista e dalla CGL di Vittorio per riprendersi, per conquistare quelle terre. Lui disse una cosa, noi eravamo semi-alfabetico, cioè una lira poveri, però avevamo una prospettiva, avevamo un sogno, cioè noi eravamo convinti che si poteva organizzare la società in una maniera diversa. Cioè per loro il socialismo non era un'astrazione, era una possibilità. Se noi non ricostruiamo un'idea di socialismo all'altezza del ventunesimo secolo, non troveremo la capacità di parlare e di coinvolgere in un processo collettivo le masse che oggi subiscono sui termini di masse molto rozzo e anche inadeguato, ma comunque le milioni di persone, le moltitudini che subiscono sono le nuove forme di dominio del capitalismo. E' credente, la questione del sogno non è priva di valore pratico. Il Marchese De Sade, che si intendeva di masochismo, stato masochismo e di solito, insomma, anche noi italiani, almeno dagli orientamenti di voto, diceva che se toglie al popolo il suo dio, è più facile sottometterlo demoralizzandolo. William Barrows, del pastoluto, lo diceva alla stessa maniera, diceva guardate che non ci sarà più tanto bisogno dei mancarelli perché basterà la depressione per tenere a bada la gente. Ecco, noi dobbiamo avere la capacità di costruire, e non potremmo mai farlo da soli, e dobbiamo saperlo, una prospettiva invece che renda possibile immaginare un'alternativa di società. Ebrate bene? E quello che hanno fatto in forme, in un contesto completamente diverso da noi, che non può essere imitato dai compagni e compagni degli Stati Uniti, fuori, lo faccio un minuto di pubblicità, progresso, troverete un libro che ho proposto di tradurre in un'articola case editrice, per cui ho scritto la prima della postfazione, si chiama Climate to Will, un pianeta da conquistare, è una citazione di Marx ovviamente, è il titolo, ed è il manifesto ecosocialista per un primo inutile radicale. Nella prefazione Naomi Klein dice una cosa, guardate, non basta la crisi, dice se la gente non immagina la possibilità di un'alternativa dalla crisi, i poteri e le gerarchie escono più forti, non più deboli. Nel 2008 il capitalismo neoliberista è entrato in crisi, c'è stata la protesta, ma non c'era l'alternativa, non c'era quella che c'era un tempo. E lei racconta, fa episodi, racconti che non lo sapevo sinceramente, che a New York e negli Stati Uniti molti cominciarono a organizzare i soldi accalti, poi per l'ora arrivata le notizie erano due in Parigi. C'è la possibilità che i lavoratori potessero organizzare la propria vita in maniera democratica e non essere una massa subalterna di sfruttati. e in questo libro provano a delineare non solo una visione di ecosocialismo, ma anche un programma, un credo, di trasformazione e riorganizzazione di una società capitalistica avanzata. Io credo che non meno di questo sia il compito che a noi ci attende, perché non siamo, se non siamo all'altezza, guardate bene, lo ripeto, non lo saremo certi da soli, beh, non riusciremo né con le soluzioni di ingegneria elettoralistica, né quelle organizzative, né col volontarismo a creare le condizioni per cambiare i rapporti di forza nel nostro Paese. credo che quindi abbiamo bisogno di visione e di programmi concreti di trasformazione e abbiamo bisogno che il partito funzioni come luogo dove rispetto ai problemi che abbiamo ci sia, che sono enormi, noi arriviamo esausti a questo congresso, non è il precedente prossimo in gran forma, ma insomma proseguiamo una china rispetto alla quale davvero siamo dei resistenti. Ebbene, io credo che c'è una parola che a volte nel nostro impattito è stata demonizzata, che io credo che sia un valore. Non è stato perché ha fatto grandi rivoluzioni, ma guardate, l'ho sentita gridare tante volte, ripetuta, ripetuta, per esempio in America Latina, unità, unità, unità. L'unità non è un disvalore, anzi, è un prerequisito per combinare qualcosa di buono. Lo è dentro i partiti e nelle relazioni con l'altro, chi si è buono di noi. L'importante è sempre capire l'unità con chi per fare che tutti. Rossana Rossanda, vorrei ricordare questo congresso perché è stata una rifondatrice comunista antelittera, fondata in gruppo del gruppo. Vorrei ricordare perché quando si tenne la prima assemblea per il nuovo scioglimento del Partito Comunista italiano, lei che era stata espulsa nel 1000, radiata nel 1969, intervenne e disse che lei si schierava con quelli che si battevano per la rifondazione comunista, per chi non accettava quella resa incondizionata che era esplicitata dalla svolta di quel genio di occhetto. Una compagnia che è sempre stata a noi vicina, a volte anche dissentendo fortemente, a volte aveva ragione lei, a volte avevamo ragione noi. Quando Violetto mi mandò un messaggio via mail, ti raccomando di cercare l'unità sono moltissimi i solitari. Io penso che sia un dovere eseguire le sue indicazioni perché fanno parte di una storia, della storia di chi ha capito negli anni 20 e 30 quanto sia stato dannoso, non certo nel senso di Enzio Mauro, poi ne parlerò, la divisione all'interno delle forze del movimento operario. È importante sottolinearlo perché in questo momento c'è chi pensa che l'alleanza sia da fare con il grande capitale internazionale che non è esattamente la stessa cosa. Per la prima volta noi facciamo un congresso unitario. Mi fa piacere che Citto lo abbia pensato. Non basta, certo, ma diciamocelo che è un fatto storico per il nostro partito e che se avessimo cercato prima di fare congressi unitari, forse l'Italia non sarebbe un paese che c'è il record di faccia e il martello e anche il record di pochi voluti nella comunità. L'unità non significa non avere le proprie opinioni, non scontrarsi, ma non coltivare a tutti i costi la necessità dell'emissione, come se fosse quasi una patologica impellezza senza la quale non ci si sveglia bene la mattina. Di fronte allo spettacolo di 4-5 liste anticapitalista, ognuno con il proprio sindaco, in alternativa, poi ce n'erano anche altre, un po' meno anticapitaliste e un po' meno gli altri radicalzi alleati come il PD, di fronte a questo spettacolo. Io credo che noi dobbiamo rivendicare il nostro partito come una virtù e non una convenzione debole, quella alla politica unitaria. A volte io sento molti nostri compagni e compagni che sentono che questo nostro anelito ad unire, ad uscire da questa situazione che ha le folle, beh che sarebbe una nostra posizione debole. Io lo dico, non penso che sia utile un partito della rifondazione comunista che competa con altri partiti che si dicono comunisti o anticapitalisti di sinistra, per lo zero virgola, per dire sono arrivato io, ma sono arrivato a questo partito. Questo non serve a niente. Quello che ci serve è che il nostro partito vetta la sua storia, la propria cultura politica a servizio di qualcosa che serva e che non serva a dividerci. Abbiamo intitolato il nostro congresso le radici alle ali, quando l'ho proposto ovviamente ho chiesto prima il permesso ai nostri amici e compagni di vecchia data, a Marino e Sandro Severini della Gheghe, che credo abbiamo ringraziato. Il disco continuiva 30 anni come noi e poi insomma a volte, loro sono poeti sul serio, riescono a sintetizzare ciò di cui abbiamo bisogno, meglio insomma nelle formule politiche poi abbiamo aggiunto a noi preparare l'alternativa, l'opposizione, insomma le cose, insomma i poeti sono più bravi di noi e impariamo da poeti. Ecco quando lo abbiamo intitolato così, come è anche la nostra tessera e lo abbiamo fatto perché questo è un anno di anniversari per noi fondamentali. Io penso che la storia non serva per le messe, serva per la costruzione di quella visione. Gli smemorati si perdono per strada e finiscono a chi l'ha visto, quindi la storia, compreso gli errori che ci sono dentro una storia, le difficoltà, le contraddizioni servono e come? Senza non si va da nessuna parte, senza quando si sbarriscono può accadere che decine di migliaia di persone siano in una piazza e sentano un fascista dire che si va all'assalto, all'assedio della CGL e al posto di assaltare il palco e menarli magari lo applaudono o fanno finita di niente. La storia serve per capire e per non subire fregature già vissute in passato e serve imparare dalle esperienze fatte cosa possa o non possa funzionare. questo è un anno di anniversario, tutti utilissimi perché ultimamente in Italia si stanno riproducendo varie categorie di supercomunisti che franca perché non so perché piacciono moltissimo la televisione, che visto comunismo e il socialismo hanno una tale idea che a volte io mi domando ma che ha fatto per tutta la mia vita, ma dove ero? Ma che comunisti frequentavo io. Allora io vorrei citare questa tradizione che Grau definiva libertà. Quest'anno ricorreva il centocinquantesimo anniversario della Comune di Parigi. Il primo esempio di governo operario che lo definì Max, la forma finalmente trovata. Io voglio ricordare che dopo i giorni della prima rivoluzione francese in cui la prima Comune aveva proclamato il suffraggio universale e dopo il 1848, quando il suffraggio universale fu di nuovo revocato e gli operai da regini presi a fucilate, la Comune di Parigi era l'unico luogo in Europa dove la cassa lavoratrice e il popolo si dava a un governo attraverso un voto democratico a suffraggio universale. Le radici del nostro movimento sono nella libertà e nella democrazia, nell'autogoverno degli sfruttati e delle sfruttate, delle oppresse e degli oppressi. E già il fatto che i miliardari ci abbiano strappato questa parola e vadano raccontando che sono loro che l'hanno inventata questa democrazia, bene, è una battaglia culturale da fare presso le giovani generazioni anche da spiegare a qualche super comunista che non ce l'ha ancora chiara. Abbiamo un altro anniversario quest'anno, è quello di Rosa Luxemburg che nacque in quell'anno e quell'ispirazione democratica portò dentro all'epoca più rivoluzionaria della storia, quella segnata dalla rivoluzione russa e poi dalla fallita rivoluzione tedesca. Rosa Luxemburg era una rivoluzionaria che era crescita dentro il movimento operaio europeo, era anche una straniera in un paese straniero, era ebrea e polacca e dirigente della socialdemocrazia tedesca, una identità mediciata come quella di tante compagni e compagni che comincio a vedere iscritte e iscritti a questo partito. Iscritte e iscritti che io saluto che vengano dal Mali, vengano dal Marocco, vengano da ogni parte della terra, dall'Equador, dalla Bolivia, perché un partito comunista del ventunesimo secolo in Italia non può che essere un partito della classe lavoratrice di questo paese. C'è una classe lavoratrice che viene da mille posti diversi del mondo. E tra di loro ci sono compagni e compagni che portano le loro tradizioni di lotta, le loro esperienze tra di noi. Ci sono compagni palestinesi, compagni boliviani. A un certo punto dopo la vittoria dei compagni in Bolivia, nelle immagini si è vista sui social una maniera di rifondazione comunista. Io pensavo che fosse qualcuno di voi in vacanza. Erano compagni, credo, di Bergamo boliviani che sono contemporaneamente militanti del MAS di Evo Morales e del partito della rifondazione comunista. E quindi quando qualcuno viene a dirci che noi siamo radica chic perché ci occupiamo degli immigrati invece di occuparci della classe operaria italiana, oltre a essere un po' troppo vicino a posizioni francistoidi, è anche uno che adesso comunismo non ha capito proprio niente. Perché quella è la classe operaria italiana e così si costruisce l'organizzazione di classe della nostra epoca. Pensateci un po'. Che nazionalità hanno avuto gli ultimi sindacalisti caduti nella lotta nel nostro paese? Da dove vengono? Allora, qualcuno mi dirà, se non capisco, ma questo non si dice più perché non si parla di immigrazione, c'è una nuova moda, il no-max, c'è stato un periodo in cui mi venivano a dire molti che noi finché avremmo tenuto determinate posizioni sull'immigrazione non parlavamo degli operari. No, noi abbiamo tenuto quelle posizioni perché siamo per l'unità della classe lavoratrice e i lavoratori immigrati che costituiscono uno dei settori di lotta più dura in questo paese, per esempio nel settore dell'inna logistica, sono un'avanguardia di massa della classe lavoratrice italiana. Ebbene, nella nostra tradizione c'è un altro centenario importante, è quello della nascita del Partito Comunista. Guardate bene, c'è stato un florileggio di pubblicistica su questo anniversario. Ed è giusto che ci sia dibattito perché le mitologie non servono. Non è una storia tutt'erosa e fiori, ci sono errori politici e limiti anche in quella storia, come in tutte le altre. Certo, raccontare che è stata l'ascissione di Livorno a produrre la ritoria del fascismo mi pare assolutamente insomma un'invenzione, Stokes, ma tutta la storiografia non la pensa così. Ma non è questo il nodo. E' che la nostra storia viene raccontata da altri mentre dobbiamo essere noi a studiarla, analizzarla criticamente e a farla vivere e trasmetterla nella forma che sia utile. E per questo io dico che questo congresso, prima di tutto nel centenario del Partito Comunista italiano, debba tributare un applauso alle centinaia di militanti comunisti che furono assassinati negli anni trenta nella Russia di Stato. in quella storia ci sono elementi che non vanno dimenticati. Il sabato scorso noi eravamo con la CGL e ho sentito qualcuno dire no ma io non vado perché la CGL è moderata. Quando si assalta la più grande organizzazione dei lavoratori e dei lavoratrici italiani non c'è da discutere. Si va a investire contro la CGL. Nella lettera che ho scritto per replicare a letta altri lacisi, quelli che dicevano andati solo con i tricolori, volevo ricordare che durante il fascismo i militanti comunisti e anche socialisti rischiavano la galera, loro dirigono il confine o qualcuno la morte per far comparire nelle città e nei paesi di tutta Italia delle bagniere rosse il primo maggio. Il primo maggio 1924 l'onorevole Guido Picelli di Parma, l'eroe dell'oltre Torrente, parlamentare comunista, issò sopra Montecitorio la bagniera rossa per protestare contro la sospensione delle libertà per i partiti e i sindacati. Noi siamo ereti di quella storia e quindi le bagniere tendenzialmente vorremmo portarle sempre. che prima della propria bagniera viene la capacità di unirla di bagniera. All'oltre Torrente, non tanto retta a Picelli, al settanismo presente del partito comunista bordiniano organizzò gli artisti del popolo e unirla di anarchici comunisti di ogni intendenza, socialisti, popolari, tutte le espressioni della classe lavoratrice per contrastare il fascismo. Ecco, questo è il modo con cui le comuniste e i comunisti devono stare anche oggi dentro la realtà. La nostra storia, la nostra identità, parola che non mi piace perché non ho mai provato le libri di Karl Marx, ma comunque chiusciamolo perché va in mano da troppi anni, per la nostra identità non può essere una e non deve essere mai una barriera a lottare insieme ad altri contro un'ingiustizia, contro una devastazione ambientale, contro lo scurantismo clericale, contro una discriminazione. Noi stiamo sempre per lavorare con lo stile di Guido Picelli e con lo stile che ci insegnò il giovane che in quella immagine, negli anni trenta in carcere Gramsci era isolato dagli altri compagni del partito che seguivano la linea settaria della svolta che fu imposta alla terza internazionale. Entrò in un carcere il giovane Sandro Pertini, turatiano, gli altri comunisti lo schifavano perché era un riformista turatiano. Gramsci gli disse di lasciare prendere quelle sciocchezze e divenne amico di Sandro Pertini. Sandro Pertini per tutta la vita è stato un compagno dei comunisti, è stato al fianco dei comunisti e delle comuniste nella resistenza e lo è stato in tutti i momenti determinanti della lotta del movimento operaio italiano. Anche questa è la nostra storia. Nella nostra storia dobbiamo saper selezionare l'intelligenza e la sensibilità. Poi c'è qualcuno che vuole fare la collezione dei difetti e glieli lascerò molto volentieri. Compagni, in questo anniversario noi dobbiamo riflettere, molti lo fanno sul 21, io invece lo vorrei fare sul 91. Cioè su cosa è accaduto in Italia, vedete, Ezio Mauro ha scritto un libro che si intitola La dannazione della sinistra e dice che è cominciata nel 21. Ovviamente non so che poi comunisti e socialisti si unirono, che poi c'è l'antifascismo, i fronti popolari, so che qualcuno non piace ancora adesso, la grande stagione della lotta di liberazione e poi tutte le lotte del dopoguerra viene discorrendo la Costituzione, la Repubblica. Io penso che la dannazione della sinistra invece è cominciata in un altro momento. È cominciata negli anni Ottanta, dopo che sconfitti davanti ai cancelli della Fiat, oppure sconfitti davanti alle miniere inglesi, gran parte dei partiti di massa del movimento operario europeo hanno, almeno nei loro gruppi dirigenti, deciso di cambiare il mestiere. Vedete qui non si tratta di essere più o meno moderati, ma di essere più o meno radicali, più o meno anticapitalisti. Perché la World Party è stato per decenni un partito sicuramente non rivoluzionario, ma che era un'organizzazione di massa che dava rappresentanza alla classe lavoratrice inglese. Ebbene noi, nel finale del 1989-91, al posto di difendere una tradizione di libertà e democrazia che faticosamente aveva sviluppato la critica del socialismo reale, abbiamo avuto una grande recuperazione trasformistica che ha fatto sì che non ci fosse più alcuna resistenza alla conversione al neopiberismo. Allora pensavamo di star votando, se chiamarsi ancora comunisti o meno, invece si votava su qualcosa di più profondo. Luciano Libertini posse la domanda di fondo, disse il crollo del socialismo reale, dell'Unione Sovietica, fa venire meno l'ipotesi, il progetto, l'orizzonte socialista e comunista? E la risposta ovviamente, noi che siamo qui, diceva allora, si chiede, fu no. Anzi, quei regimi li avevamo già abbondantemente criticati prima, molto prima. Ma, compagni e compagni, in realtà c'è anche un'altra domanda. Può esistere ancora in Italia una sinistra espressione delle classi lavoratrici, delle classi popolari, autonoma dal capitale, che rappresenti un'alternativa di società? Se ne accorse un dirigente del PC che voto no, che non era particolarmente un estremista, era stato negli anni 70 il responsabile economico del PC di Berlinguer, insomma, non proprio un estremista. Luciano Barca, un mandato al figlio Fabrizio, l'articolo in occasione dell'anniversario, insomma, di una ricorrenza, che scrisse che nessuno era notato che il compagno napoletano diceva non solo il partito che deve nascere non deve essere più comunista, ma non deve essere neanche antagonista. Deve essere, credo il termine che usava, costruttivo. Ecco, vogliamo parlare di dannazione della sinistra? Io la metterei così. L'Italia è l'unico paese in Europa che dal 1990 complessivamente ha visto diminuire i salari. La dannazione della sinistra è cominciata quando si è deciso che questo paese non dovesse avere più una sinistra degna di questo nome. E lo dico compagni e compagni, noi in questo congresso ci avviamo perché sarà a dicembre verso il nostro trentennale. Io sento sempre ricostruzioni della nostra storia che sono davvero autolesioniste, perché sono ricostruzioni della nostra storia in cui ricordiamo che è costrutta, ha litigato con Garavini e l'ho fatto diventere, poi Bertinotti e poi quello e poi quell'altro, poi abbiamo sbagliato il lato, cioè quello che è uscito e è andato a quell'altro partito, così è un disastro. Io vorrei ricordare un'altra storia, lo dico non perché non dobbiamo fare tesoro anche degli errori, le parole che dicevo sull'unità erano in autocritica nella pratica, non nel cielo. Ma possiamo rivendicare che questa sacca di resistenza per trent'anni ha cercato di dire verità che altrimenti sarebbero state cancellate e che da quando noi siamo diventati deboli e invisibili non sono più dentro il dibattito politico nella coscienza popolare di questo Paese? Vogliamo dire che non diciamo soltanto no alla limitazione del comunismo, diciamo no al sistema elettorale maggioritario che fu consigliato alla ex-sinistra italiana da Margaret Thatcher. Lo dico perché quando si parla di essere uniti per difendere la Costituzione, e non ci siamo sempre, bisogna mettersi a conto. Quale Costituzione difendiamo? La Costituzione del 1848 o quella taroccata con i voti di quelli che hanno votato utile per difendere la Costituzione? Tutte le politiche che dalla carta costituzionale sono passate con l'importo del centro-sinistra. Ed è questo che noi dobbiamo porre come problema. Ma vogliamo parlare di Maastricht? Fummo gli unici a dire no a tutti i trattati europei e non perché fossimo sovranisti, noi siamo per l'internazionale figurati. Ma noi dicevamo no, io vorrei ringraziare qui Giovanni, non so spera perché fece il discorso al senato e Lucio Magni per quello alla Camera, come profeti, perché in Maastricht si vedeva la fine del patto costituzionale, di quello che in altri paesi è stato chiamato compromesso socialdemocratico. Allora compagni e compagni, questa storia vogliamo la vogliamo rivendicare? La vogliamo rivendicare con orgoglio che quando Letta dice che ci vuole un altro patto come quello di Ciampi? Ma vogliamo ricordare che quello è il patto che ha smontato gran parte dei diritti e del potere contrattuale della classe operaria italiana a partire dalla scala della scala della scala. E quando compagni parliamo della nostra storia, vogliamo ricordare che qualcuno diceva che con la globalizzazione mettiamo sul pianeta tutti i figli dei fiori, da lei mi ricordò che disse che da noi lo differenziava il fatto che noi avevamo una visione catastrofica della globalizzazione, credo che oggi non lo dica, visto che anche lui è preoccupato che ci ritorneremo la quarta guerra mondiale con la Cina in questo passo, se continuano così le cose, continua la crisi di questa globalizzazione neoliberista. E vogliamo ricordare la questione della guerra, vogliamo ricordare l'ex Jugoslavia, la Nato, tutto ciò che è creduto in questo paese. Allora, compagni e compagni, arriviamo all'ultimo dello stile di Versani, Genova. Bene, compagni e compagni. La torsione autoritaria del neoliberismo a Genova l'abbiamo vissuta tutta. Abbiamo vissuto anche la potenzialità di un nuovo progetto anticapitalista che sia capace in questo paese a livello globale, come è stato il movimento dei movimenti per alcuni anni, di connettere e far convergere storie, culture e attitudini differenti. Ebbene, io credo che da lì dobbiamo ripartire, perché essere lì non significò, come qualcuno allora paventava, essere meno comunista e meno comunista. Significava gettare i semi e lavorare a essere comunista e comunisti nel ventunesimo secolo. Ed è per questo che credo che noi non possiamo abbaccarci soltanto sulla memoria e la nostalgia, anche se non fa mai male. Ma dobbiamo ragionare su qual è il senso nostro, di chiamarci di fondazione comunista. Perché se serve solo un partito populista, un po' radicale, non c'è bisogno di noi. Ce ne sono tanti e al limite ci metto pure. Io credo che ha senso se noi cerchiamo di approcciare criticamente la nostra cultura politica e la nostra storia. Perché la cancellazione delle culture politiche radicate nelle classi popolari e lavoratrici del nostro paese ha lasciato lo spazio alle derive che sono sotto i nostri occhi. E in questo congresso credo che dobbiamo domandarci a trent'anni di distanza con onestà tra di noi se il progetto della rifondazione comunista ha ancora un senso. Perché in assoluto bisogna essere convinti e convinti non. E parlate bene, ci sono tante compagnie e compagnie che sono disposte a lottare insieme a noi che in questo senso non lo trovano più. Verso di loro noi non dobbiamo essere settati perché sono compagnie e compagnie che ogni giorno sono disponibili a farla alla lottazione per noi. Casomai dobbiamo dimostrare concretamente che questo progetto può avere ancora una sua utilità, che non sia gettato lì solo per inerzia, solo perché è stata un pezzo importante della nostra vita. Il paradosso di rifondazione è che abbiamo avuto ragione su tantissime cose ma purtroppo abbiamo perso la battaglia, anzi la sconfitta è fortissima e dentro questo ci dobbiamo interrogare perché ci sono limiti nostri e limiti dei raccorti di forza sulle piante che abbiamo subito. Un'attitudine non dobbiamo avere, lo dicevo prima, quella della voglia di partito. Lasciamola ad altri. Nell'anno 91 e per molti anni di fondazione aveva racconto non solo la maggior parte dell'energia militante ma anche di quelle intellettuali della sinistra anticapitalista e del comunismo italiano e tutte le sue colleghe correnti. Non è più così grande, noi lo sappiamo e quindi dobbiamo avere la coscienza dei nostri limiti e la consapevolezza che già avevamo a Genova quando eravamo più fuori. Le radici però dentro questa trasformazione volticosa in cui siamo immersi da anni che è sociale, culturale, di percezione, ci devono servire a sviluppare un profilo culturale, ideale, programmatico forte. Insomma lo dico chiaramente, io non penso che noi abbiamo bisogno solo di slogan semplificati perché anche per fare questo ci vuole molto studio. Abbiamo bisogno di più cultura politica e non meno perché persino per praticare una tattica di cosiddetto populismo di sinistra c'è bisogno di molto pensiero, di molta autonomia, di molto ragionamento sul discorso, su molto ragionamento sul proprio essere in campo in quale forma e con quale tipo di relazione con la società. Io di una cosa però sono convinto che il nostro comunismo non sia una debolezza. A me a volte mi intristisce vedere i nostri compagni che sui social, che esistono, una volta c'erano le piazze o le assemblee per discutere e litigare, adesso ci sono i social. Io confido che si crei un mix perché è sempre meglio guardarsi negli occhi quando si discute. Ecco io non penso che noi siamo in difficoltà perché non siamo campisti ma siamo internazionalisti. qualcuno pensa che se noi fossimo più allineati e andassimo in giro dicendo che in Cina si sta costruendo un bellissimo social, se mitizzassimo il modello cinese e dichiarassimo il Partito Comunista cinese e l'omologo del Partito Comunista dopo lei, al di là che non ha funzionato neanche quella soluzione per il Movimento Comunista. Io non penso che quella sia la soluzione. Noi siamo internazionalisti e quindi diciamo no alla nuova guerra fredda che l'Occidente sta scatenando verso la Cina, senza però sballire neanche un millimetro del nostro spirito critico quando esaminiamo la storia e la realtà di quel paese con cui ci relazioniamo con rispetto ma non per sostituire un mito o un altro. Noi siamo internazionalisti ma qualcuno ci ha accusato grandi di non essere filo Putin. Io consiglierei di andare a vedere i comunicati del Partito Comunista russo e delle altre organizzazioni comuniste contro gli arresti in Russia negli ultimi mesi e la repressione delle manifestazioni. quindi internazionalisti sì ma non regredire a forme di analisi rosse che non portano a nessuna parte e che tra l'altro riproducono polarizzazioni che non ci appartengono. Beh compagni non dovremmo essere per l'ecosocialismo non dovremmo essere oggi rossi e verdi allo stesso tempo? È possibile oggi pensare a una critica del capitalismo che non tenga conto della contraddizione ambientale. Noi parliamo dei morti sul lavoro quando sono i più palesi. Sono i morti quando Luana finisce massucrata e masciullata dentro una macchina da cui sono stati tolti dispositivi di sicurezza per farla produrre di più ma il numero di morti per tumori causati dalle nocività è enormemente superiore allo stesso numero di morti già enorme della strage sul lavoro. E come fa un comunista, un socialista, un anticapitalista a non essere oggi ambientalisti? Noi dobbiamo essere e lo siamo in Italia, devo dire, con l'arco anticipo, quindi non è che ciò devono spiegare gli americani. Per noi siamo nel paese di Laura Monti, di Giorgio Nelli e di Virginio Pettini. Beh, essere rossi e verdi per noi non è una novità, anzi ci deve servire a smontare la finzione ecologica di questo governo e il greenwashing del capitale e di forze peribili che usano l'ecologia per fare marketing e arrappare il raro pubblico senza mettere in discussione un modello di sviluppo distruttivo che crea l'appartime a livello planetario, perché ricordiamoci, non c'è solo il famoso antropocene che poi in realtà sarebbe capitano cene, perché l'uomo insomma il ricambio organico con la natura per millenni ce l'ha avuto insomma senza sconvolgere troppo e col capitalismo che noi abbiamo, l'industrialismo uno sviluppismo tale che roppono tutti i parametri insomma con un'impronta ecologica devastante, ma questa impronta ecologica la pagano e questo lo dobbiamo sapere, in primo luogo i popoli del sud del mondo, che la pagano due volte perché vengono rabbinati delle risorse e in cambio si ritrovano i disastri ambientali e per questo noi dobbiamo essere rossi e verdi e quindi anche nell'ambientalismo portare il nostro antiimperialismo, perché noi non siamo ningui, non siamo di quelli che pensano che l'acciaio si può produrre ammazzando e per l'altro la gente del terzo mondo, mentre da noi no, noi siamo comuniste e comunisti verdi che lottano se serve l'acciaio per produrlo in maniera ecologica e per farlo con quelli e compagni che la notizia arriva dalla Svezia, mi loro dici che si sono riusciti in maniera recente, il primo prodotto di acciaio senza carbonio, lo chiamano così, è stato prodotto da una rete, un cartello di imprese pubbliche svedesi, da nessuna multinazionale che mi risulti. Ed è per questo, compagni e compagni, che qualcuno lo scrivo ieri, ogni tanto veniamo accusati di essere la sinistra fucsia, a di là, è anche carina, è bella, ricordiamoci sempre quello che diceva Lidia Mena Pace, la maggior parte del proletariato mondiale che dell'umanità è composta da donne. Il femminismo è voluto dopo, ma già nell'Ottocento il libro più venduto dalla socialdemocrazia tedesca dopo il manifesto comunista di Marx era l'emancipazione della donna di Agustin Bebbel. A me sembra incredibile che oggi in Italia ci siano dei compagni che possano pensare che la nostra sconfitta sta nel fatto che noi stiamo schierati col movimento delle donne, o siamo schierati per i diritti LGBTQI, o siamo schierati per altre cause sacrosalte che stanno dentro il progetto infinito di emancipazione come non può essere un momento reale di abolizione lo Stato di cose presenti. Anzi, se lo posso dire, noi siamo troppo poco fucsiali, non non è di abolizione. E a questi compagni che cedono a queste retoriche di destra, io farei presente e consiglio sempre questo magnifico manifesto, a mio parere, della rifondazione comunista, che è il manifesto del femminismo del 99%, scritto da tre compagni negli Stati Uniti, ma in realtà una compagna italiana, un'altra indiana, un'altra statunitense, Nancy Fraser, Cinzia, Ruzia, una compagna indiana, non mi dico il nome perché non riuscirò a pronunciare neanche dopo quattro corsi di informazione. Ora, anche qui, parliamo di intersezionalità, molti compagni mi hanno chiesto ma che è questa intersezionalità? L'intersezionalità è già nelle nostre vite. Io prima ci davo il nome di Luana, ma secondo me Luana rientra, che ha fatto notizia perché era una bella ragazza, 22 anni, probabilmente si aveva 50 anni, la pancia, un'altra compagnia che faceva notizia, questo fa parte della maniera, ma Luana rientra nell'immagine di classi operai, maschio, bianco, cinquantenne, eccetera, che tutti hanno in mente, pure le diste, eccetera, quando non tiene il bossi, o era la classe lavoratrice di oggi, o non era una delle tante proletarie che incontriamo alla cassa dei supermercati per alcuni mesi senza manco che gli mettessero davanti i plecchi che si riasse per proteggerci. Luana ha le mille vite di compagni e compagni che noi conosciamo, non è la moltitudine di persone che dentro questo modo di produzione e questo sistema vengono sfruttate e solo senza diritti. Allora, compagni e compagni, non è questa la causa della nostra sconfitta. Chi lo racconta, a mio parere, fa propri i luoghi comuni dell'avversario. È un po' come la storia dei vaccini, lo voglio dire con chiarezza. Io la penso come Sergio Bologna, vecchio operaista che ha dedicato la vita a studiare la causa, a studiare l'altra classe operaia. Io penso sinceramente, con tutti i rispetto, perché ho una quantità enorme di amici e amici, anche qualche parente. Però nella sua espressione di fondo, a livello planetario, io penso che il movimento Novavax sia un movimento reazionario di destra. Ci sono due iscritti e amici del nostro partito, compagni, che lo sono e li rispetto e dobbiamo discutere. Però l'ispirazione di fondo è quella della statofobia, ma non per sostituire lo Stato con la Cune di Parigi, no? E la statofobia nel senso che le forme di regolazione sociale non vanno bene. Che le multinazionali ci controllino dalla macchina alla sera e la normalità. Ma invece, se la tua ASL prende i tuoi dati, c'è il totalitarismo. Non a caso negli Stati Uniti, quei fascisti detrampisti andavano con i cartelli, social distancing is communism. Cioè il distanziamento e il comunismo. Allora voglio dire che dobbiamo ringraziarlo perché vuol dire che il comunismo fa bene alla salute. Io non penso che in questi contesti tempestosi noi dobbiamo impeccare il icodismo. Dobbiamo assumere posizioni però che stiano sul pezzo. E per cui io penso che noi abbiamo fatto bene a criticare il Green Pass sui luoghi di lavoro. Abbiamo fatto bene perché siamo di fronte a un raggiamento che non ha alcuna giustificazione. Questo paese, questi disegno liberali ritengono che il loro liberalismo finisce quando si entra nei luoghi di lavoro. Noi pensiamo il contrario. Che queste lavoratrici e lavoratori con cui io discuterò e litigherò anche da ex paziente per ore, giorni, quando vogliono sui vaccini. Beh però questi lavoratori non possono essere sanzionati quando gli è stato chiesto di andare a lavorare quando non c'erano vaccini e non c'erano nemmeno le mascherine. E questo governo è la comunità che ha proposto il Green Pass sui luoghi di lavoro non è necessitata moralmente a me. Saper distinguere è fondamentale. Per esempio se siete proprio no max, però per la manifestazione se siete trovate i fascisti, menategli in maniera non violenta per discutere i vaccini. Oppure se siamo noi, veniamo a dire che noi siamo contro la discriminazione sul luogo di lavoro, ma cari miei facciamo una bella assemblea con Crisanti e discutiamo se davvero come facciamo l'educazione sanitaria, dialettica e discutiamo se non è il caso di vaccinarci. E se proprio avete paura dei vaccini prodotti dalle multinazionali che sono subiti, noi viviamo nel dominio del capitalismo in contrastato e più capitalisti dai capitalisti ci spiegano che non vanno bene i vaccini perché non vanno in multinazionali. Al di là che con una società capitalistica ormai per poco non viene prodotto da... Questo è anche interessante come elemento. Allora assumiamo un'iniziativa, cominciamo la campagna per dire che l'Italia è un porto che comincia a durare i vaccini così che si chiudono nuove le parti nazionali si dà le vaccini in due panni, ma le compagni in due panni non le cittiviamo mai posizioni che a mio parere alla lunga portano all'idea che il servizio sanitario nazionale è una questione di scelte individuali che ha anche il diritto alla salute e lo studio. Compagni e compagni citavamo la nostra storia. La nostra storia, compagni e compagni, non è una storia di muri come ci hanno raccontato. Marx scriveva che era la storia del regime a costruire muri. A Marx del capitalismo piaceva che abbattesse i muri e le curaglie cinesi. Quindi noi non dobbiamo mai essere schierati con forme di anticapitalismo reazionale. Io lo dico, le posizioni espresse da un amorevole filosofo che è andato alla moda negli ultimi vent'anni e anche dal suo collega che poi alla fine dice sempre di votare il PD, sono posizioni di anticapitalismo reazionale, di rifiuto della scienza, di rifiuto della medicina e di rifiuto di un ruolo attivo dello Stato nel campo della salute. Io francamente non mi sento vittima di una dittatura se mi metto la mascherina per non alitare o non ricevere l'alito di qualcuno quando c'è una pandemia. Mi sembra addirittura assurdo che su questo dobbiamo discutere nel ventunesimo secolo, ma è anche su questo che si fa una battaglia dentro le classi comunali. Però detto questo, compagni e compagni, non possiamo farci fregare. A me pare evidente che l'establishment di questo paese, i Novax, se non ce ne avessi avuti, stai saranno inventati. Perché se i cittadati di base o le associazioni ambientaliste o lavoratori da GKN o qualsiasi agli ambientalisti seri, se ci fosse una vertenza, una lotta seria sui problemi sentiti da milioni di persone avesse lo spazio che avranno avuto dall'inizio, prima è no maschi, poi no afro, non quello, non quell'altro, eccetera, eccetera, l'Italia sarebbe lo più nocadio. A me pare che si tenda a provocare e a suscitare e amplificare la protesta a Novax per legittimare il governo Draghi come un governo che garantisce il buon senso paternalistico, la salvaguardia della salute di tutti, il futuro della nazione e la salvezza nazionale. Questo è un trucco in cui non dobbiamo cadere. Noi siamo Sipax e non Draghi. E lo siamo, compagni e compagni, perché, guardate bene, non per pregiudizio verso un banchiere figurativi, se uno come me per giudizi verso Draghi. Una volta sul manifesto contestandomi una cosa ho detto, le biografie non contano. Io non l'ho mai pensato, no? Ma in questo paese accadono le cose più strane per giustificare il fatto che devi stare con chi non ci si può stare, le biografie non contano. Che divendia, salvatore della nazione, l'uomo che ha gestito le privatizzazioni in questo paese, l'uomo di Goldberg e Sachs, l'uomo della BCE, la BCE mentre straggulava la Grecia, eh? Lo vorrei ricordare perché, no, ma sicuramente nessuno se lo dimentica e questo, in quel frangente, è un ruolo anche l'attuale sindaco di Roma che non mi ricordo in Commissione Europea che fosse un combattente, è una commissione che presideva al fianco di Alexis Tsipras e del governo di Sicilia. No, lo dico, perché questo non va dimenticato, ma guardate bene, ovviamente può accadere di tutto. Ma noi, Draghi, abbiamo prima, ci siamo pronunciati sulla base del pregiudizio. Io voglio dire, quando si discuteva di dare il Ministero del Lavoro a Rifondazione Comunista, eh, Confindustria che ha detto, mai il Ministero del Lavoro a Rifondazione Comunista. Ecco, io dico, eh, per una sinistra decente mai la guida della Repubblica ha un banchiere passato per Goldberg e Sachs, pregiudizio di loro e pregiudizio di loro. Se Dillo diventa in questo paese una bestemmia, perché questo paese è andato profondamente a destra e ci ha dato soprattutto il popolo di quello che si chiama popolo, che viene definito popolo di sinistra. E con questo dobbiamo fare noi i conti. Perché ci sono alcune cose in cui le dobbiamo riflettere. Il nostro giudizio sul governo Draghi è uscito confermato. È uscito confermato dal PNRR, esce confermato dalle misure della manovra. Eh, perché guardate bene, può anche accadere che uno va lì, fa delle cose, e tu dici, cavolo, questo è diventato il chienesiano che diceva un allevo di freddico caffè, non è neoliberista, anzi ambientalista. Beh, purtroppo, tutto ciò che sta accadendo conferma quello che dicevano di Draghi e del suo governo. Qualcuno mi ha detto, ma non si può correttamente definirlo neoliberista, perché io ci accordo, definiamolo neocapitalista. D'accordo? Cioè, esprime un'egemonia dell'oligarchia di questo paese a livello europeo che fa sì che i bisogni popolari sostanzialmente siano fuori dell'ambito della possibilità di incidenza forte della politica. politica. E allora, compagni e compagni, noi abbiamo però un bel problemino, che nonostante tutto questo, accadono le cose che il bipolarismo vince, non funziona. Perché il bipolarismo, quando non vota più del 50% popolazione, nelle elezioni in cui ci sono più candidati che ti suonano la porta, vuol dire che non funziona. Ma non funziona per chi pensa la democrazia come partecipazione, ma funziona come dispositivo di disciplinamento della società e delle istituzioni all'egemonia colonialistica. Funziona benissimo. Perché neanche quelli che la pensano come noi votano per noi. Anzi, può accadere che pensino che rafforzare il governo Trump, perché è stato spiegato che quello sarebbe stato il risultato del voto, serva a battere il fascismo. E questo accompagno una contraddizione su cui noi dobbiamo lavorare moltissimo, perché dopo anni e anni che ci sfasciamo la testa, anzi ci hanno sfasciato loro a noi, e c'è un dibattito su cui riflettere. Perché, per esempio, noi non possiamo liquidare come traditori quelli di sinistra che pensano che bisogna fare come Sanders o come compagni spagnoli, provarci, condizionare, stare lì perché non c'è un altro luogo. Io dico perché non sono d'accordo. Lo voglio dire con estrema chiarezza. Non per slogan astratti, mai con il PD, o sempre col piccio e queste cose, non mi riguardano. Io penso una cosa molto semplice, che non ci siamo riusciti noi quando eravamo un partito, diciamo, decisamente più forte di quanto sia la sinistra anticapitalista e climberista oggi, con in Italia movimenti di massa fortissimi e, diciamo, sappiamo com'è andata, adesso vi dovete spiegare come lo si fa candidando delle simpatiche persone ad avere un diritto di tribuna dentro quel gioco lì. Io credo che non ci sia nulla in comune in questo con quello che ha fatto Sanders. Non a caso Sanders ha chiamato la sua campagna con le parole di insurrezione e rivoluzione, con uno controfrontale con l'establishment democratico e indietro i movimenti che da occupare poi erano scesi in campo contestando i corporate Democrats. Non è il partito con una trattativa per alcuni seggi per avere il diritto di tribuna e il Parlamento e sopravvivere come ha certo modo. I nostri compagni spagnoli hanno, poi si potrà discutere, e sono loro che decideranno cosa fare e non fare, ma dopo aver condotto una controfrontale per anni contro il PSOE, hanno fatto una scelta per non farsi schiacciare al voto utile, ma erano una forza sociale e politica al 14% dei voti. Allora io dico, prima arriviamo a riavere in questo paese una forza, chiedo 14%, e poi riapriamo questo dibattito. Prima è una presa in giro. Prima è candidarsi con Boracini per far fare a Boracini quello che gli pare. Prima è chiuscire a cristalisti e sostenere la giunta Sala. Sala ha sostituito l'assessore urbanistica politica Portionigette all'urbanistica che ha gestito tutti i progetti immobiliaristi. Non c'è manco bisogno della mediazione della politica. La prossima volta metterà direttamente l'associazione Costruttori o Milano Finanza a dirigere. Allora, non prendiamoci in giro con paragoni che non stanno nel cielo e in terra, perché noi per tradizione siamo a favore dei fronti popolari, ma altra cosa è far parte dei fronti antipopolari. Io lo dico perché sono un convinto antifascista. È un convinto sostenitore che ogni volta che c'è da fare una battaglia antifascista dobbiamo essere uniti a tutti e a tutti. Però far identificare l'antifascismo con la causa di un governo o di una coalizione neoliberista è un danno all'antifascismo. perché mi ho detto proprio diceva che la democrazia formale regge quanto c'è la democrazia sostanziale. e quindi l'antifascismo deve recuperare la sua radice popolare perché dobbiamo ricordarci alla storia di questo paese. La storia di questo paese è quella di un paese in cui la democrazia non è stata conquistata e costruita dalle linee economiche che hanno sostenuto anzi il fascismo, i suoi bastonatori, i suoi assassini, la sua repressione di massi. Sandro Pertini appena detto presidente pubblicò l'elenco di tutti i condannati dal tribunale speciale nella prefazione ricordava che la maggioranza erano operai, contadini, artigiani. Erano le classi popolari di questo paese insieme ad alcuni intellettuali come quelli socialisti, comunisti, anarchici di giustizia e libertà. Non dimentichiamo, quando parliamo di antifascismo ricordiamoci cosa scriveva Carlo Rosselli perché forse è un'indicazione anche per noi. Carlo Rosselli scriveva nel proporre l'unificazione delle forze della nostra in termine proletariato italiano contro il fascismo invocava l'Unione per la prima volta tentata tra un'energica osinata volontà di azione e di lotta pratica con una grande larghezza e intensità di vita intellettuale. Nel socialismo vediamo l'idea forza animatrice di tutto il movimento operario. nel comunismo la prima storica applicazione del socialismo il mito assai lavorato purtroppo ma soprattutto la più energica forza rivoluzionaria. Nel libertarismo l'elemento di utopia, di sogno, di prepotenti anche se rozza e primitiva religione della persona. affermiamo la necessità di una nuova sintesi per una libertà non astratta, non formale basata su una concezione attiva, positiva emancipazione della libertà e della giustizia. io credo che dovremmo aggiungersi l'ecologia, il femminismo, il fascismo le tante culture critiche di lotta che si sono sviluppate nei decenni che sono seguiti ma noi dovremmo costruire un fronte come quello che proponeva allora Carlo Rosselli un fronte che sia antifascista e antineoliberista perché è il neoliberismo che riproduce nei nostri paesi il germe del fascismo e per questo compagni e compagni però questa mia convinzione non mi spinge a pensare che dentro il mio partito io debba essere settario mi spinge a pensare che se ci sono compagni e compagni che la pensano in maniera differente da me su questo punto e con queste compagni e compagni che poi sono rappresentative di tanti altri fuori dal mio partito che la pensano la stessa maniera beh, io preferisco che rimangano dentro la casa comune a discutere non che se ne vadano da un'altra parte a non discutere perché se rimangono nella casa comune come tra l'altro mi pare ci sia un'ampissima maggioranza che la pensa come me, anzi direi tutti a giudicare dai documenti dalle tesi congressuali approvate unitarie ma io penso che se tutti rimangono nella casa comune noi ragioniamo, ci interroghiamo e troviamo forse anche qualche soluzione nuova se invece rimangiamo dentro i prodotti ambientali che hanno prodotto la frattubazione della sinistra italiana negli ultimi vent'anni a livelli demenziali io credo che non andremo da nessuna parte se qualcuno mi imputa questo atteggiamento come pensiero debole io sinceramente penso che non lo sia perché dentro le contraddizioni bisogna starci bisogna viverle, bisogna ragionarle insieme ed affrontarle io non condivido, ve lo dico, la sindrome di Stoccolma che attaragna molte e molti a sinistra se per tutti i battiti sul manifesto sono intervenuto dopo l'editoriale di Norma Rangeli io la definisco sindrome di Stoccolma perché perché in realtà parliamo di compagni e compagni che come noi pensano che il PD con la sinistra non c'entra noi è difficile trovare qualcuno che sia entusiasta del PD tranne la Sardina Santori e il PD ha fatto una cosa buona lo hanno nominato assessore Polonia e ogni tanto qualcosa di vuole fare ma perché dico che la sindrome di Stoccolma? perché questi fanno il bipolarismo lo mantengono anche con avventurismo al rischio di dare a una destra una super vittoria alle elezioni politiche ma il bipolarismo se lo tengono quindi della difesa della reprensia non gliene frega assolutamente niente perché il primo presidio della democrazia costituzionale è il ritorno a una legge elettorale proporzionale però non serve il dispositivo serve il bipolarismo che tu non voti per le tue idee voti per non far vincere quegli altri e allora compagni e compagni e questo giorno liberiamoci di questa sindrome di Stoccolma perché sei quindi a non ritenere pericolosa la destra perché siamo mentre d'accordo se è pericolosa legge proporzionale se non è pericolosa in un comune può anche accadere che vinca la destra scusate non è che ogni volta si possono evocare i treni per Auschwitz le bastonature fasciche cioè ci dobbiamo mettere d'accordo compagni e compagni e poi se sta a destra è così pericoloso ma perché ci sta la governazione allora io ti dico una cosa noi anche qui non possiamo reagire non è che possiamo andare in ogni unione a dire a un compagno che sta nell'ampicotene la CGL o un altro luogo ma persino i sindacali c'è gente che ha dato il voto io conosco tanto a Polonia, a Roma, in tante parti cioè non è una questione di radicalità è di preoccupazione giusta perché le persone quando votano prima che votare per i propri interessi che a molti non sono neanche chiari perché il dibattito pubblico è quello che è in assenza di grandi notte che ti coinvolgano e che cambino i termini del dibattito la gente vota sui valori e quindi è evidente che se io sono una persona di sinistra se per dire una persona civile insomma tollerante, democrazia, normale con i miei parametri nessuno è normale con i miei parametri una persona beh, una persona è odio che Giorgia Meloni, Salvini e tutti quelli che si portano apprezzo siano dei vostri perché è odio che una persona di sinistra decente se c'è un assessore che esce con la pistola per andare a sparare a uno e ci esce apposta se non è tale quale e io penso che il 31 dovremmo essere tutti a Boghera con i familiari della vittima dell'assessore nazista vogliono i più di gli strani vogliono gli assassini è odio che questo confinca ma noi che andavamo ebraico era ancora contro le non ci faceva fare neanche i parker che prima qualcuno qui dentro leggeva Mario Mieli negli anni 70 eccetera quindi ma è odio che uno che ha questa sensibilità è odio che sente questo o una donna di sinistra ma non di sinistra una persona che legge il manifesto per il congresso della famiglia tradizionale eccetera eccetera in Verona dove era è ovvio che si sente mobilitato e anche se ti fa schifo e ti fa schifo alla fine dice bisogna votare lì o comunque in quel conglomerato in quel... non so come definirlo perché ci sta un po' tutto ma... perché se no arriva l'orelia ora questo è un nodo che noi dobbiamo affrontare perché è evidente una cosa che questo nodo non lo abbiamo di solito ma invece dobbiamo trovare il nodo di affrontare perché è un nodo che ci ha spianato completamente e ci ha spianato prima di tutto in mezzo ai nostri in mezzo a quelli che per anni hanno manifestato insieme a noi non a quelli da conquistare da coinvolgere con cui riaprire relazioni e per farlo io credo che abbiamo bisogno dell'intelligenza di tutti e tutti noi io non voglio entrare a far parte né della sinistra ornamentale e io quando lo disse a me in questo termine non volevo offendere nessuno volevo dire che se sei ambientalista ma li allego quelli del TAB in Val di Susa in Piemonte se sei ambientalista e ti metti con sala e via discorrendo glisso su Roma perché mi pare di dire se prendete la raccolta del messaggero capirete perché ho fatto la campagna in Caltagirone e se stai sei solo ornamentale ovviamente se poi ci saranno grandi conquiste ce le domineranno e noi ci dominerremo però noi dobbiamo trovare una strada per non essere lo zero virgola certo la prima è evitare di essere 10 zero virgola in competizione tra loro l'altra è quella di capire attraverso quali forme noi possiamo costruire un movimento per l'alternativa che abbia un'efficacia di massa e parlate bene non parliamo soltanto di elezioni non è solo una questione di elezioni è una questione innanzitutto di rompere le polarizzazioni regressive quelle che ci impongono ci fanno sempre discutere di cose in cui una posizione sinistra non c'è e invece noi abbiamo bisogno che si discuta delle questioni serie in questo momento in Italia nessuno sta discutendo che si spendono 200 miliardi per il PNRR e per giù la situazione disastrosa prodotta nell'Italia la sanità rimane uguale o nessuno sta discutendo del fatto che si parla di riforme, riforme, riforme ma l'Italia dei bassi salari rimane l'Italia dei bassi salari poi sono sicuro che il compagno Nello, il nostro responsabile lavoro quando interverrà potrà inanellare da risultati con i fatti, cioè senza nessun estremismo ma i nudi fatti spiegano che non c'è nessuna risposta ai bisogni e alle emergenze sociali del paese perché i bisogni e le emergenze affrontare erano altri, quelli della ristrutturazione dei grandi gruppi capitalistici ora io credo che noi abbiamo un'esigenza capire come riusciamo a creare, a costruire un blocco sociale dell'alternativa capire anche che è un bel lavoro come riusciamo a costruire cini di movimento perché guardate compagni e compagni se noi andassimo male le elezioni ma fossimo in mezzo a un ciclo di lotte no, e uno diceva che abbiamo fatto le elezioni e poi andiamo alle manifestazioni qui il problema è che non ci sono né pittori elettorali e neanche un grande ciclo di lotte perché le mobilizzazioni di massa le sta organizzando la destra e l'estrema destra su parole d'ordine che Dio ce ne scampi come al tempo del sanfenismo anche se elettronico in questo caso allora dobbiamo capire come farlo ed è fondamentale ed è per questo che io credo che intanto sia fondamentale costruire le condizioni per un'opposizione al governo Ucran e dentro questa opposizione è l'autorgenza da costruire a partire dai contenuti cercare anche di far maturare un discorso relativo alla necessità dell'alternativa una necessità che è motivata dalla questione ambientale come dalla questione sociale ma è motivata anche dai diritti perché compagni e compagni lasciatevelo dire gli accordi con la Libia sono criminali sia il governo c'è il ministro degli interni Salvini che sia con la ministra della Paggia questo vale per la pace tutti questi mondi che sono tutti mondi senza massa e quando parliamo di movimenti non pensiamo che a ogni sigla corrisponda chissà chi però sono le soggettività come fu prima di Genoa che ragionano sul fatto concreto a volte in un campo specifico a volte con una visione generale della costruzione dell'alternativa allora noi dobbiamo lavorare per questa convergenza la manifestazione di giornata del 30 ottobre è importantissima a mio parere perché sarebbe stato scandaloso se il 30 ottobre si fosse riunito il G20 a Roma dopo quello che sta accadendo un crimine contro l'umanità i paesi occidentali ma soprattutto l'Unione Europea e dico l'Unione Europea dico governo italiano sono complici del fatto anzi responsabile del fatto che a miliardi di persone viene negata la vaccinazione negata allora se si fa una cosa del genere con tutti i problemi che ci sono e non ci fosse una manifestazione contro il governo e contro i girenti davvero dovremmo dire che in Italia siamo messi male rimaniamo messi male ma alla fine alla manifestazione ci siamo arrivati so che il ministero sta ponendo problemi sul percorso del corteo le piazze su dove fanno dove ci sarà il verge non vogliono nemmeno esatto esatto avremo gli aggiornamenti io credo che noi come abbiamo fatto a macerata dopo la strage di Traini e ricordo sempre quel giorno una compaglia le diemi la pace perché fu il celezionale la chiamai gli dissi guardaci c'è qualche tempio che si andare va beh ma noi siamo il partito comunista andiamo e andiamo compagno e quello stile che io dico insieme a tutti quanti gli altri qualunque cosa decide il governo il 30 noi dobbiamo essere tutti a Roma e lavorare per essere davvero tanti e tanti perché sarebbe incredibile che hanno consentito ai fascisti di andare a distruggere la Sena la CCL e poi vogliono a organizzazioni democratiche antifasciste che possa impedire di protestare in occasione dei gimenti su temi fondamentali per il nostro paese e l'umanità credo che al tempo stesso noi dobbiamo lavorare per un'unità tra le formazioni politiche lo dico quest'anno è il 30 anni di fondazione comunista io credo che almeno quelli che non si sono troppo distanziati dal progetto originario di fondazione comunista che condividevano la difesa di una tradizione di una storia di un investimento insomma lavorare per la rionificazione dell'organizzazione comunista non fa mai male e sarebbe un'unità di segnale penso che però c'è un pluralismo che è giusto non siamo un paese in cui per dire che si impedisce a qualcuno di organizzarsi e quindi noi dobbiamo pensare a qualcosa di largo a cui possano partecipare tanti noi nelle nostre tesi formuliamo una proposta la proponiamo a tutti cioè la sinistra sociale e politica anche quella che non si definisce neanche sinistra ma solitemi una reale sinistra in questo paese di ragionare su come si possa convergere sia nelle lotte nella costruzione dell'opposizione e sia sul piano politico e anche elettorale e su questo concludo compagni io voglio ringraziare tutte le personalità i compagni e i compagni che si sono messi a disposizione in queste elezioni amministrative difficilissime perché da Dora Palumbo a Bologna a Gabriele a Mariano a Milano a Angelo a Torino a Paolo a Pertini a Roma a Alessandro in Italia che bene ognuno di loro sapeva che non era una passeggiata che il rischio alzi il 90% era di non farcela però hanno sentito l'esigenza di essere lì per testimoniare che un'altra politica è possibile io poi ho fatto un esempio che non serve a celebrare e mitizzare però un esempio importante in Calabria siamo riusciti credo tutto uniti e con una candidatura credibile che non poteva essere censurata dai media per la fama da magistrato e poi da sindaco di Napoli come quella di Luigi De Magistris che oggi è il primo nome a costruire una campagna che ha coinvolto con la società civile attiva l'associazionismo il volontariato e tanti di sinistra di ogni genere più o meno radicali impegnati in qualche modo che ha fatto emergere un'altra Calabria e questo popolo schieramento fronte non so come chiamarlo movimento beh non ha preso il zero virgola ha preso il 16,2 e che questo risultato venga nascosto nelle regole italiane anche nella Stata che parla sempre del 0 e dell'1 e mai del 16,2 indicheranno guardate bene non è che tutto facilmente trasponibile però di una cosa la Calabria è una dimostrazione che non sta scritto da nessuna parte che se non ti allei col PD o se non sei nel gioco del popularismo devi per forza prendere lo 0 con l'1% e allora io dico non che dobbiamo copiare la Calabria e utilizzare la Calabria eccetera ma che dobbiamo studiare perché in Calabria le cose sono funzionate o in altre realtà per esempio i piccoli centri dove gli istri perché ci sono tante altre esperienze ovviamente meno visibili in cui ci sono stati risultati strabilianti fuori dai due poli soprattutto nei piccoli centri dove non conta la televisione ma il contatto diretto però noi dobbiamo studiare perché non è che qualcuno di noi ha la soluzione noi di Fondazione Comunista sono 10 anni che diciamo che siamo disponibili a costruire un soggetto unitario plurale quindi si sa come la pensiamo almeno maggioritariamente nei congressi precedenti e credo che è un'opinione che continuiamo a mantenere però questo non basta perché probabilmente questo obiettivo che a mio parere sarebbe utile per altri non è possibile però sicuramente quello su cui dobbiamo lavorare e interrogarci come costruire una forza che oggi non c'è ma non per potenti elettoralistici ma per dare voce a chi oggi non ha voce per dare forza e proposta e compagni per questo io dico che noi dobbiamo evitare dibattiti tra di noi che sono fuori del buon senso è ovvio che un partito non può che essere sociale se è comunista anche se non è comunista direi gli epochristiani erano socialisti che stavano da tutte le parti con il loro associazionismo con il loro lateralismo quindi non dibattono proprio fuori dalla grazia di Dio poi non essere sociale perché sei rimasto da solo quindi non sai più più fare società ma se no dimostra grazie insomma se fai il partito sociale poi parli anche con la gente e fai anche il resto eh ma credo che non possiamo neanche pensare che sia un gran risultato accantonare la questione istituzionale per molto tempo perché pensiamo agli Stati Uniti dove la sinistra è stata esclusa dalle istituzioni per un secolo negli Stati Uniti stanno lottando come se fosse la rivoluzione per il servizio sanitario nazionale e per dei diritti minimi dei lavoratori di copertura eccetera per non indebitarsi di iscrivi all'università eccetera eccetera perché non hanno mai avuto una sinistra di classe espressione della classe lavoratrice dentro il loro congresso io francamente non mi rasseo a me piace molto insomma ci sono molte espressioni a cultura degli Stati Uniti che mi piacciono ma questa no io non mi rassegno all'idea che noi diventiamo un paese in cui ci siano rappresentanti diverse multinazionali a contendersi il governo del paese io penso che noi al più presto dobbiamo riparare questo danno che si è prodotto nella democrazia italiana che proprio noi che l'anno che combate e gli unici che la Costituzione ci credono ancora nel senso che la difendono come principio ebbene che gli unici cioè quelli che stanno fuori perché il Parlamento c'è l'arco incostituzionale perché hanno fatto la gara negli ultimi vent'anni e chi doveva massacrare la Costituzione tutti i sorregati 5 stelle non hanno tagliato gli stimenti ma hanno tagliato il Parlamento insomma questo è quello che è accaduto in Italia e allora compagni e compagni di quale partito abbiamo bisogno per fare questa battaglia non è un partito che si divide su queste cose perché ragiona su nuove idee cioè su pratiche che generalizzi le pratiche positive che metta in a valore tutte le regie che ci sono un partito che rifugga dalle formule magiche che non ci sono che possono servire a ogni congresso mi ricordo che quando fu eletto io fu detto che facevamo la ripartenza io ho dubbioso come hanno detto altri non ho assunto particolari responsabilità abbiamo dei guai giganteschi davanti a noi per affrontarli e costruire un progetto per cui valga la vita di spendersi abbiamo bisogno dell'intelligenza di tutte e di tutti e per questo credo che sia un partito in cui noi abbiamo bisogno che le energie giovani siano valorizzate sono valorizzate non in termini di spettacolo ma in termini di concreta costruzione attraverso le nuove generazioni i nuovi gruppi dirigenti di responsabilità dove io ho diretto il partito per anni la mia federazione è diretta dallo giovane che è diventato 26 anni segretario di federazione e prima di diventare segretario di federazione c'era il portavoce della Bruzzo social forum non era c'è un compagno qui che nel suo comune cinque anni fa si candidò preso il 5% e questa volta ha preso il 21% in alternativa ai due esistenti c'è un'altra compagna che ha preso il 37,5% in due comuni ci sono due sindaci una con l'exilogra continua un altro la prima volta fu letto che era 25 anni che è stato letto per la terza volta al di fuori dei comuni esistenti quindi questo è il lavoro da fare e che va innervato imparando con gli altri costruendo la convergenza perché noi abbiamo bisogno non solo di tutte le intelligenze che abbiamo in partito e tutte le passioni che abbiamo in partito ma tutte quelle che condividono con noi le lotte le istanze anche corali che ci animano e abbiamo bisogno di fare sì che in qualche maniera questa lunga attraversata del deserto non si traluca tra di noi in cannibalizzazione è un processo che va avanti da anni nella nostra scrista la frattuazione che c'è e che non riguarda solo noi eh la frattuazione è terribile ma è lo specchio anche di una debolezza estrema di una disperazione noi cerchiamo delle vie di fuga da una situazione difficilissima in cui ci troviamo beh io credo che sulla disperazione non costruiamo niente abbiamo bisogno invece della pazienza ragionata eh qui a Chianciano era credo il 2008 io per tutti voi per tutti insomma per buona parte presentai una mozione concludendo il mio intervento ci dai una delle mie poesie preferite è la poesia che inviò per il suo tantesimo compleanno Samuel Beckett Herbert Marcuse questa poesia diceva passo passo in nessun luogo nessuno solo sa come nessuno solo sa come passo passo in nessun luogo ostinatamente compagni e compagni continuiamo a andare in direzione ostinata e contraria grazie 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 per l'aspirazione grazie la spie ire Grazie a tutti. Nostra fine sarà l'internazionale futuro e umanità. Grazie a tutti. Ci si può accomodare anche su questa ala qui, su questa balconata, se non si trova posto sopra, forse sarebbe auspicabile. A questo punto, dopo le parole del secretario nazionale di rifondazione, passiamo la parola attraverso un breve saluto ad Hans Birbau, che è il presidente della sinistra europea, il partito che noi abbiamo fondato, che è il quale è la parola attraverso. Grazie. 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 ospito anche i tuoi presenti. Diamo la parola al compagno Giancarlo Pagliarulo, presidente della Filippa dell'Associazione della Filippa dell'Associazione di un programma in un nuovo compagno della Filippa dell'Associazione di Stato. Sì, il compagno Baglieruno si presenta. Allora, scusate compagno Gianfranco, siamo in attesa dell'intervento del compagno Baglieruno che si sta avvicinando. Si prepari l'ambasciatore di Cuba, il compagno Josecar Lourdes. Un applauso per favore al compagno Baglieruno. Non vi ho aspettato di poter avvicinare. Ma rapido, no, gli facciamo fare. Grazie a tutti i compagni e a tutti i compagni. Vi porto un saluto, come si dice, di un ambito nazionale mio personale in un momento drammatico della vita del Paese e dell'intima vicenda umana. Ho detto ieri nel tesi, vi ho visto che giustamente si prova a mettere a fuoco il quadro della situazione della vita vivente, delle condizioni in cui si trova oggi in un'opera. Tanti di noi, tanti di voi, abbiamo letto Gabriele Cassia Marches, L'amore al tempo del Conevano. Ebbene, oggi, come mi pare, è stato provato a fare, leggere il dolore al tempo della pandemia, e cioè la condizione attuale di gran parte dell'umanità. Anche noi, in Ampi, abbiamo avviato la campagna congressuale e nei mesi prossimi daremo vita al congresso nazionale dell'Anpi. Ho letto le vostre tesi una nota citazione di Gramsci. La crisi consiste nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno si verifichano i fenomeni morbosi e più sbagliati. E ho pensato a un documento congressuale dell'Anpi, dove abbiamo scritto, fra l'altro, quando il vecchio muore e il nuovo non può nascere, insolvono pericoli di cesarismo. C'è il rischio di regimi autocratici, sostituendo la partecipazione democratica e la rappresentanza con la delega diretta e pubblicitaria. Mi sono permesso questa citazione per rappresentare in qualche affinità di collaborazione. Ricordo, a proposito di anniversari, Maurizio ci ha ricordato di anniversari buoni, ricordo un anniversario cattivo, che il 28 ottobre dell'anno prossimo sono cento anni dalla marcia su Roma e hanno già cominciato a ricordarla. Mi riferisco al segno scuro del nostro tempo, che gioia recente l'assalto fascista alla sede nazionale della CGL. Prova generale, secondo me, di un movimento reazionario di massa che, per fortuna, la settimana successiva a Prieste ha fallito. Ma c'è un pericolo costante. Io, quando per titoli, ricordo, scusate, il buffo gioco di parole, che nel 19 ci fu il diciarotismo e tre anni dopo ci fu il governo di Benito Mussolini. Ma dopo l'assalto alla sede della CGL c'è stata la splendida risposta popolare in Piazza San Giovanni. C'è stata poi la vevolezza nei giorni scorsi dell'ordine del giorno del centro-sinistra in merito allo scioglimento delle organizzazioni neofasciste. Non ci si impegna chiaramente il governo a sciogliere forza nuova, ma, cito, a valutare le modalità per l'arseguito al dettato costituzionale. Non ci pare che basta. Tra l'altro stupisce per usare l'eutemismo che la non partecipazione al voto del centro-sinistra sia stata operata e così è passata anche alla mozione della testa. Quella mozione, che io ho detto, è semplicemente irricevibile perché manifesta il pericolo della criminalizzazione generalizzata dei centri sociali e di ogni opposizione sociale che era esplicita in una prima versione della mozione di centro-destra che ho avuto modo di mettere. E nasconde l'infinita serie di atti questi sì criminali dei gruppi neofascisti. Non c'è nella mozione di centro-destra una dichiarazione esplicita una assunzione di responsabilità chiara nei confronti del neofascismo se non nella forma degli opposti estremismi. Facendo così il gioco di fratelli d'Italia che dopo lo scandalo fanpage si è ben guardata da rompere definitivamente con il fascismo e negando di fatto la specificità costituzionale dell'unica fondamentale illegalità politica che c'è in Italia quella del fascismo. Ricordo che ci troviamo in una situazione in cui sarebbe un errore sottovalutare il pericolo dell'estrema destra. Ricordo che anche oggi nonostante un lieve arretramento gli ultimi sondaggi danno in costanza tutto sommato da un anno e mezzo le forze dell'estrema destra insieme al 40% non si può essere indifferenti sull'esito elettorale. Noi da tempo abbiamo dato vita a un ampio fronte unito condiviso anche da rifondazione da Maurizio che comprende molte associazioni i tre sindacati l'ACRI le ACRI l'ARCI e tante altre associazioni anche un fronte politico etnogeneo come i 5 Stelle e il Partito Democratico. Allora che era l'inizio di quest'anno abbiamo approvato assieme a gennaio un documento dal titolo Uniamoci per salvare l'Italia in cui si definisce un'alleanza una rete che leggo questo documento questo appello contrasti l'insopportabile crescere delle diseguaglianze combatta l'avanzare incessante delle mafie e della corruzione sostenga il valore della vita e la dignità della persona umana e il lavoro come fondamento della Repubblica assuma il valore e la cultura della differenza di genere rivendichi della tutela della salute come diritto fondamentale la centralità della scuola e della formazione la piena e reale libertà di informazione oggi insidiata da vere e proprie intimidazioni l'Italia che ci sia qua il Censurito che ha contribuito a stendere questa parte del testo mi piace ricordare che l'esperienza di gennaio che stiamo continuando a percorrere ha in qualche modo ripreso un filo dell'unità dell'esperienza resistenziale dei comitati di liberazione nazionale che nulla toglieva all'identità di ciascun soggetto partigiano in questo congresso di comunisti io ricordo un adagio diciamo così che dice che non tutti i partigiani erano comunisti e qui c'è l'idevitabile e ineliminabile chiave unitaria ma poi dice che tutti i comunisti erano partigiani e qui c'è la chiave per possibili dell'Italia per chi come voi si definisce comunista sono due verità del movimento partigiano che si accompagnano e che sono vicini diceva prima Maurizio unità citando una parola ormai universale che l'unità come voi insegnate non si fa con l'inguano diciamo così ma si fa con l'universo proprio nei prossimi giorni abbiamo ricollocato il tavolo nazionale italiano per dare poco in pulso alla costruzione di reti territoriali sempre più alti e profonde che a partire dalle condizioni materiali delle condizioni locali avanzino a coste di cambiamento dove l'economia si allenta servizio della società delle persone e dell'ambiente si dia nuova vitalità alla partecipazione democratica oggi pesantemente penalizzata si contrastino in ogni forma legittima e nella modalità politica sociale legislativa istituzionale culturale le formazioni fasciste razziste naziste nazionaliste si intervenga per straticare l'impasto di pregiudizi tradizionalisti anticientifici di nazionalisti magici che costituisce il retroterra dell'attuale consenso al fascismo al tempo della crisi della partecipazione di quella che si può chiamare la secessione dal volo al tempo della pallida democrazia un popolo in funga come l'ho letto su un titolo che pare del manifesto proviamo a rilanciare un ampio progetto di riconnessione tra società e politica immaginando una democrazia che si espandola per dirla con un grande partigiano maggiore in funghiere con un immaginario una democrazia progressiva mi permetto di aggiungere a questo saluto una considerazione che prende spunto da una frase che ho letto nelle vostre presi oggi non c'è più sinistra nelle istituzioni ed anche l'immaginario mentre le classi lavoratrici e popolari sono attive di rappresentanza ciò viene di parlare a compagni e compagni della formazione politica che è una storia oramai lunga ma una forza attualmente assai ridotta la scomparsa della sinistra non è un problema della sola sinistra ma della democrazia del paese la privazione di rappresentanza del lavoro non è un problema della sola sinistra ma della democrazia del paese a me pare che la strada della ricostruzione della sinistra in Italia sarà complicata è una vera ricostruzione di tutti ma è un problema della propria rappresentanza politica non è un problema alla soluzione del problema della ricostruzione della sinistra guardiamo in un modo nuovo c'è un sistema politico nuovo grazie 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 in una splendida poesia di San Guiglietti l'altra metà della terra donne concrete donne che vivono nelle contraddizioni concrete sociali le donne fra cui operava e per cui lavorava Guida e Mervaggio a partire da questo valore si può caroggiare l'anigma dell'ora del mondo a cominciare e cominciare a pensare in un modo realistico organizzato a una promessa di felicità si potrebbe chiamare forse nuovo umanesimo non più nell'inci non più frontiera una versione del nuovo secolo di quello che nel novecento abbiamo chiamato ancora in tanti con un modizio giustamente fatto oggi chiamano internazionalismo l'antifascismo non è un'ideologia cari compagni cari compagni come sapete ma è un'idea che ha comuna come piattaforma di valori condivisi tanto che spesso valori che spesso definiamo diciamo così come se fossero banali ma che oggi sono drammaticamente attuali e penso che l'antifascismo possa essere l'innesco di questo processo che ho definito verso il nuovo umanismo quali valori di cui spesso riprende leggiare i nomi come una vita mia democrazia libertà liberazione eguaglianza solidarietà lavoro pace antifascismo ha detto giustamente il segretario che deve recuperare la sua anima popolare ma vorrei aggiungere che quest'anima popolare c'è ancora ed è un'anima purale ci sono comunisti socialisti democristiani laici cattolici e dobbiamo immaginare il fascismo l'antifascismo mai come una barriera ma sempre come una porta che accoglie mi sembra ragionevole accennarvi all'apparente paradosso della resistenza i resistenti nel 43-45 comprendevano anche i monatici e cioè fra i principali responsabili della crescita del fascismo e attraverso questa comprensione che con il successo che prima sono stati battuti i fascisti e poi sono stati battuti l'anno successivo come noto il 2 giugno del 46 i monatici o bruto dicendo che sta a tutti dell'anno successivo che queste idee che tutto ciò non sia solo una speranza ma diventi un programma una bandiera leali si dice nel bellissimo titolo che è posto dal congresso seguono a volare le compagnie e i cari compagni come fa la poesia di cui parlava Maurizio Cerco e noi viviamo in un tempo in bassa cosa di amministrazione delle sistemi di infinito presente benvenga la poesia benvenga la visione benvenga l'orizzonte benvenga il potere del sogno al tempo in cui la politica si è ridotta solamente al sogno del potere e io penso che attraverso il potere del sogno si rappresentava la voce esistenziale di tanti partigiani e partigiani in quei 20 mesi dall'8 settembre al 25 aprile bene cari compagni e cari compagni buon lavoro buon volo antifascisti antifasciste compagni e compagni grazie 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 questo intervento per noi molto molto importante il presidente dell'arci Daniele Lorezzi ha dovuto allontanarsi prima di poter parlare naturalmente ci saluta e noi lo ringraziamo a questo punto diamo la parola all'ambasciatore di Cuba Jose Carlos e se si rilogano i miei majestic buonasera a tutti anzitutto mi piacerebbe se devo compiere il dovere di leggere il messaggio del Partito Comunista Cubano al XI Congreso del Partito della Refundazione Comunista il Partito Comunista di Cuba in occasione della celebrazione del XI Congreso del Partito della Refundazione Comunista trasmette un frattato saluto a le direzioni del Partito e al suo militare al contempo abbiamo la responsabilità di costruire unità nella diversità per poter affrontare le sfide imposte dalla crisi multidimensionale del mondo aggravata dalla pandemia della Covid-19 il governo degli Stati Uniti intensifica i suoi attacchi contro la nostra nazione attraverso la guerra non convenzionale e rinforza il blocco criminale nel mezzo della pandemia l'attuale amministrazione mantiene ripeto l'attuale amministrazione di Biden mantiene in vigore le 243 misure di Trump contro Cuba nel pano tentativo dell'imperialismo yanqui e sconfiggere la rivoluzione cubana Cuba resiste avanza crea e cerca alternativa in mezzo a enorme carenza gli scienziati cubani hanno creato tre vaccini e due candidati vaccinali contro la Covid-19 faccio parentesi grazie a Maurizio per essere volontari per quella prova che si fa da qua in Italia diceva i due candidati vaccinali contro la Covid-19 che ha permesso di vaccinali i nostri bambini e la popolazione adulta faccio un altro parentesi oggi già sono vaccinali a Cuba ricordatevi che abbiamo 11 milioni di persone ci sono vaccinali a Cuba oggi già 7 milioni di cubani e abbiamo cominciato la vaccinazione a luglio scorso alcuni giorni fa ricordava continuo con la parentesi alcuni giorni fa ricordava che in tutti i telegiornali si è messo in primi posti un annuncio che sembrava una grande cosa Pfizer aveva deciso di iniziare il sviluppo di una vaccina per i bambini ma nessuno ha parlato che Cuba ha stato il primo paese al mondo a iniziare l'escorso 7 di settembre la vaccinazione massiva di tutti i bambini da due anni fino a 16 anni è il primo al mondo il 15 di novembre tutti i bambini cubani saranno vaccinati chiudo la parentesi le brigada aiutano altri popoli come altro fa l'Italia e il popolo si sta utilizzando per il sviluppo socio-economico del paese nonostante la restrizione economica e finanziaria e in defensa della sua rivoluzione contro le campagne di odio e violenza promossa dal governo degli Stati Uniti volte alla desestabilizzazione di Cuba ringraziamo per la solidarietà permanente del partito della rifondazione comunista con Cuba nella nota per la revoca del giusto blocco imposto da più di 60 anni riaffermiamo la volontà di continuare a consolidare le relazioni d'amicizia tra i nostri partiti relazioni internazionali del comitato centrale del partito comunista del pubblico compagni lo voglio parlare molto tempo se è che voi dovete discutere di tante cose che sono importanti ma dovete permettermi aggiungere due o tre parole in nome personale sono qui logicamente e ringrazio al segretario Maurizio Acerro alla direzione del partito della rifondazione comunista per l'invito che si hanno fatto ringrazio e sono qui ripeto la mia condizione istituzionale come compasciatore ma mi piace dirvi che mi sento molto satisfatto orgoglioso di essere qui con voi anche come anche come membro del partito comunista di cubo e permettetemi anche un racconto di un minuto sapete che noi gli ammazzatori dobbiamo parlare con tanti di tutti i colori fino a un punto non tutti i colori precisamente ma una volta qui parlando con un sindaco di un'importante città italiana che è patrimonio culturale dell'umanità con questo non avevo nessun segreto perché voi avete tante città patrimonio culturale dell'umanità ma dico qualcosa in più il suo condimento inizia con una pe per destra che era un incontro formale perché io stavo in quella città e abbiamo cominciato a discutere e a discutere tanto e profondo e lui aveva un consiglio comunale ha dovuto tre volte far correre l'inizio del consiglio perché lui si è voluto continuare la discussione con me fino a un punto tre ore tre ore e mezza abbiamo discusso e alla fine mi ha detto l'ambassatore non posso più adesso devo dire nel consiglio che la culpa del mio retardo la ha l'ambassatore comunista di Cuba lo ha detto lo debo con buon carattere e io lo debo ho messo a ridere e le ho detto non ti preoccupare possiamo prendere la culpa siamo già abituati a prendere tante colpa ma che chiedo soltanto una cosa non la dite dire che sono l'ambassatore comunista di Cuba io questo lo dobbiamo essere dubbiosi di quello che siamo perché siamo abbiamo vissuto abbiamo combattuto e crediamo no dei sogni come si ha detto qui tante volte è importante avere dei sogni non dei sogni astratti abbiamo combattuti e continuiamo a combattere continuiamo a avere dei sogni di giustizia è molto concreto di giustizia per tutti gli esseri umani è importante anche di giustizia per tutti gli esseri umani in tutto il mondo non soltanto in una parte del mondo e questo mondo ha delle giustizie molto molto pesanti io qua stavo leggendo permettetemi questa rivista che mi hanno dato quando ho ingressato stavo guardando veloce alcuni articoli tra altre queste di povertà di scelta politica e qui si mette un un dato e nel caso dei poveri negli Stati Uniti di America 32 milioni di persone 32 milioni di persone negli Stati Uniti si parla anche dell'Italia ma dell'Italia dovete parlare voi logicamente ma la cosa che voglio sottolineare che cosa si 32 milioni negli Stati Uniti in Africa in America Latina in Asia nel mondo è durissimo è molto difficile capire ed ho dato un po' vecchietto 30 di agosto il 70% della vaccinazione mondiale contro la Covid è stata concentrata in 10 paesi questo è un mondo di giustizia e non si può continuare così e dico questo perché per noi cubani per noi comunisti cubani è molto importante avere sempre una chiaressima visione che dobbiamo notare per la giustizia del nostro popolo ma anche per condividere quella lotta di giustizia con volere la giustizia per tutti i popoli al mondo e lo facciamo soltanto con la parola lo facciamo soltanto con i buoni discursi lo facciamo con tutto quello che possiamo fare con tutto quello che è le nostre mani lo facciamo anche con i nostri medici andando anche paesi sviluppati perché la cosa che ci interessa non sono gli esseri umani che il obiettivo deve essere nel centro di tutti le nostre patate e dobbiamo e dobbiamo sapere che per sconfiggere l'enorme sfide che abbiamo che abbiamo ognuno dei popoli nelle nostre dimensioni territoriali nelle dimensioni dell'intorno territoriale dei nostri paesi ma che abbiamo a livello mondiale dobbiamo andare con molta fermezza con molta chiarezza per cercare l'unità nella diversità e sempre condividendo la visione che possiamo vincere soltanto con una convenzione di internazionalismo di internazionalismo se no sempre ci individeranno abbiamo di fronte a noi ostacoli grandi abbiamo dei poteri molto grandi con una capacità enorme in tutti i sensi che lo vediamo dappertutto ma non possiamo staccare non possiamo non possiamo rimanere con le braccia cruciale dobbiamo fare tutto il possibile Cuba oggi è un momento molto importante del suo sviluppo stiamo attraversando lo devo dire con chiarezza le grosse difficoltà in questi mesi più al blocco economico commerciale e finanziario che da necce al popolo cubano da 60 anni abbiamo dovuto confrontarsi con le difficoltà derivate della pandemia della Covid-19 e in questo momento l'imperialismo e tutti gli aliati di destra che hanno che condividono con loro la speranza di inginocchiare la rivoluzione cubana che non hanno potuto fino ad adesso inginocchiarlo e che non potranno inginocchiarlo mai hanno pensato che questo è il momento opportuno un modo opportunista per abattere il progetto rivoluzionario cubano hanno organizzato all'unio scorso una vicenda di desestabilizzazione contro il nostro paese e stanno organizzando un'altra per novembre prossimo è importante che i compagni lo sappiano e stanno organizzando dagli Stati Uniti una desestabilizzazione in Cuba a novembre prossimo ma vi posso assicurare che il popolo cubano continuerà a difendere la sua rivoluzione la maggioria del popolo cubano continuerà a difendere la sua rivoluzione potete essere sicuro di quello abbiamo delle conquiste conquiste importanti che dobbiamo difendere ma anche abbiamo la voglia e il desiderio di conquistare di una giustizia più grossa per il nostro popolo non è per esmontare il socialismo è per rafforzare il socialismo potete essere sicuro di più potete dire altre cose ma devo rispettare rispettare i vostri temi ma l'ultima cosa che dico cari compagni grazie per il vostro appoglio permanente con Cuba con il popolo cubano e con la rivoluzione cubana potete contare con il popolo rivoluzionario di Cuba potete contare con i comunisti cubani con Aliati potete contare con la rivoluzione cubana per molti anni grazie mille buona volta grazie grazie ora faccio da vedere perché sono appassionato come ci appassiona Cuba e la sua storia diamo ora la parola a Luigi De Magistris e dopo Mauro Ardorese buonasera grazie a Maurizio grazie al partito della rifondazione comunista per questo invito ovviamente il mio saluto quindi sarà non sarà un'analisi approfondita spero di consigliarmi qualche riflessione e soprattutto qualche esperienza la prima quella che abbiamo fatto insieme che non è troppo raccontata dai media sono stato il sindaco più longevo della storia di Napoli dal 1806 avendo all'opposizione PD 5 Stelle Italia Italia Viva Lega Fratellità e Forza Italia un governo autonomo popolare con la sinistra radicale e i movimenti di base quando mi sono insediato con i debiti a 3 miliardi e 200 milioni di rifiuti al primo piano il pensiero unico liberista mi diceva che per salvarci dovevamo privatizzare tutto vendere tutto licenziare tutto e affidarci ovviamente con i nostri corpi e le nostre anime al sistema siamo andati in direzione ostinata e contraria è stato difficile mai un governo vicino mai un governo regionale mai un giornale mai i poteri mediatici eppure siamo a 10 anni da referendum sull'acqua pubblica l'unica città d'Italia che ha attuato un'azienda speciale tutta tutti che ha avvicinato e quindi siamo l'unica città d'Italia con le grandi città d'Italia che non ha privatizzato un servizio di rilevanza costituzionale l'azienda dei rifiuti l'azienda pubblica dei trasporti il patrimonio immobiliare che il centrosinistra aveva affidato a Romeo della Consi abbiamo stabilizzato nonostante siamo perché per chi sa le amministrazioni sa che cosa sto dicendo il comune predesesto che non può assumere non può investire non può fare puntui abbiamo stabilizzato lavoratori precari gli LS1 centinaia che da 23 anni erano precari questo grazie ai giovani grazie al popolo grazie ai movimenti sociali grazie alle periferie tanti difetti tante cose non le abbiamo fatte non c'è stato uno sgombero in dieci anni il conflitto sociale è stato l'anima della nostra città e allora questo lo dico perché si può fare si può fare se stai fuori dalle stanze del compromesso morale si può fare se sei libero se non è un prezzo si paga un prezzo a non avere un prezzo ma è bello essere libero autonomi indipendenti e cercare connessioni sentimentali sempre tra la gente nei momenti della festa e nei momenti della difficoltà quindi questo è il segnale che voglio consegnare che i momenti rivoluzionari insegnano tante cose poi magari bisogna essere bravi a costruire anche progetti che durano più a lungo ma io sono orgoglioso di queste esperienze e ve la volevo consegnare dieci anni di mani pulite in una città attraversata prima che arrivassimo noi da scandali malaffare rifiuti al primo piano subappalti affidamenti diretti camorri e va andiamo brevemente sulla calabria io sono un romantico della politica non mi nascolto perché pensavo a un altro risultato ma camminare con uno zainetto senza apparati senza funzionari di partito senza il sistema tutti contro di noi compresa la candidata del partito democratico che nei confronti non parlava mai del suo amico di centrodestra ma sempre contro di noi il movimento civico popolare che ha visto unita tutta la sinistra non dico la sinistra la sinistra del PD perché per me il PD non è un partito di sinistra unita tutta la sinistra e sono i momenti di pace sono orgoglioso che in poche settimane sei visto fatte di donne e uomini in una regione che conosco bene in una regione dove i poteri versivi dentro allo Stato sono fortissimi dove la legalità formale mi fa più male di un proiettivo in cui per vedere un colletto bianco condannato per corruzione non arrivi alle dita di una mano e sono orgoglioso che nelle nostre viste c'è lo Stato un uomo giusto e l'antitesi del fine mi raccomando mi raccomando tutti i vostri come nel nostro paese da una distinzione della legalità c'è una sera c'è una sera che si sa per le viste e non è un calabria che aveva venuto a mandare un passaggio nella preghettanza universale non era facile e io le prime dichiarazioni la rivista lo denuncio però faccio tutto il punto non era facile prendere il 16 e mezzo non era facile prendere 130 mila voti non era facile Cosenza 31% Renne dove ci stanno la maggior parte di giovani 34 e mezzo 100 mi dispiace in alcuni comuni dell'Astromonto il candidato al centrodestra prende 900 voti e noi ne pigliano 7 forse ci hanno dato stesso loro per dire che non erano proprio tutti da una parte e allora abbiamo dato un segnale e l'ultima riflessione perché i tempi sono brevi io sono molto preoccupato del pensiero unico dominante del nostro paese pandemia sanità pandemia mentale pandemia culturale pandemia sociale stiamo affidando la medicina a chi ci ha portato sull'orlo del bar una volta si diceva il Parlamento è l'organo che si limita ormai a ratificare i decreti legge del governo non è saputo con posizione del Parlamento quasi non c'è si ratificano decisioni nemmeno per i sedenti non si parla di cultura di un intrattenimento scuola pubblica residuale non si dà forza a ciò che invece può rappresentare la linfa di questo paese allora di fronte a questo che cosa possiamo fare è sufficiente i movimenti dei partiti seppur alternativi al blocco e nella nostra esperienza siamo stati alternativi sia a Napoli che in Calabria i blocchi di centro-sinistra e centro-destra io credo che dobbiamo fare tutto innanzitutto quando si va a governare bisogna comprendere che il diritto non è solo uno strumento di repressione ma una funzione rivoluzionale cioè non segna la Costituzione quindi il diritto quando si va a governare non ti devi dimenticare che ti siete su quella coltrona e devi avere la libertà l'autonomia e il coraggio di prendere determinate decisioni in maniera costituzionalmente orientata ma io potrò sembrare curioso che lo faccia uno che ha fatto il magistrato per tanti anni in maniera autonoma e indipendente anche proprio all'interno del sistema della magistratura io credo che c'è bisogno di un grande movimento collettivo di istigazione culturale a una ribellione civica non violenta non lo dice il dici le magistrate l'ho letto quando stavo a scuola e partecipavo ai movimenti studentesi e chiudo su questo in un articolo che ha scolpito il mio modo di fare politica e anche magistratura se ci sono troppi ostacoli e sono tanti di ordine economico e sociale e sono tanti l'ha detto Maurizio non voglio ripetere potrei dire altro che impediscono lo sviluppo della persona umana ma non lo sviluppo della persona umana secondo il consumismo universale il neoliberismo il turbocapitalismo ma del rapporto che dovrà essere armonioso tra sviluppo progresso rispetto della natura ambiente industria compatibile con la terra e col creato che impedisce la partecipazione dei lavoratori alla vita democratica del paese non basta il Parlamento non basta il governo non bastano quei magistrati che ancora ci sono che non si occupano di immigrazione condannando a tredici anni e mezzo mamma mia non ho mai visto niente di simile non bastano i partiti anche alternativi al sistema ci vuole la Repubblica che siamo noi ma ci vuole un grande movimento di ribellito altrimenti io mi sono sempre chiesto da giurista ma anche da linguista perché quelli che prima di noi hanno conosciuto sulla propria pelle la violenza della legalità formata la violenza dell'abuso del potere attraverso le leggi il fascismo il nazismo i capi di Stato i ministri i tribunali delle razze perché hanno scritto non è diritto è compito del Parlamento no della Repubblica tutti noi rimuovere in questo tempo ne va sempre colpito è compito della Repubblica rimuovere gli australi cioè loro hanno voluto dire secondo me alle future generazioni se dovesse capitare anche in forme di crisi quello che è accaduto a noi cioè che il potere costituito impedisce la realizzazione dei principi fondamentali fratellanza libertà la solidarietà libertà civile istruzione sanità pubblica paesaggio le cose che stanno nei 12 e poi fino agli articoli 41 e potremmo continuare compreso la proprietà privata che insieme alla Nato sui due argomenti che in Italia non si può mai parlare allora abbiamo il diritto di ribellarci no abbiamo il dovere di più abbiamo il compito di rimuovere e allora se abbiamo il compito di rimuovere l'opposizione non la possiamo fare solo non possiamo solamente all'interno delle istituzioni non andare verso il pensiero unico dobbiamo fare una grande stagione di mobilitazione mobilitazione nei nomi istituzionali di chi non si pieta al pensiero unico che c'è nelle istituzioni dove vi assicuro io da 30 anni sono stato nelle istituzioni adesso non ci sono più da alcuni giorni ma nelle istituzioni delle persone libere purtroppo non sono la maggioranza allora proviamo a costruire una stagione di grande mobilitazione di lotte per i diritti di lotte che possano formare quella coscienza civile quell'entusiasmo quella passione e io per la verità l'ho visto anche se in forme diverse a Napoli in Calabria Napoli in Blu esplosiva energica i giovani i centri sociali la città d'Europa con il maggior numero di bambini in Calabria il segnale è stato forte certo in poche settimane in poche mesi passare dal ricatto al riscatto passare da un partito unico della spesa pubblica che non vuole diritti ma vuole bisogni non vuole cittadini liberi ma studi non vuole partecipazione ma vuole rassegnazione dobbiamo lottare e lottare in tanti uniti nelle differenze uniti nelle diversità ma io credo che c'è una strada importante io non ci sto ad affidare il futuro anche prima della pandemia a svuotare a mortificare il che essenziale ha creato disuguaglianze e che è entrato in maniera eressiva nel cuore dello Stato perché ci dicono sempre che noi siamo socialmente pericolosi sovversivi masanieri noi siamo persone normali oppure come dicevi tu vino da neve no gli sono pazzi forse siamo tutti pazzi siamo normali ma non lo so non ci vogliamo omologare a tutto questo perché ce lo delinea la costituzione nata quella sì dalla resistenza al nazifascismo e chiudo con orgoglio da Napoletano nelle quattro giornate il 27 30 settembre 43 con una rivolta di giovani e donne fu la prima prima del 45 di liberarsi dell'autopressione nazifascista chiudo a libertà sempre antifascisti grazie diamo la parola a Marco Alvorese segretario del G che si prepara e si prepara a piccolati e si rispondano cari compagni cari compagni innanzitutto desidero ringraziare per l'invito ad essere presente a questa vostra importante assise congressuale io ho ascoltato con attenzione con interesse la relazione del compagno Maurizio Cerro condivido ampiamente l'analisi della fase da esso svolta tante delle proposte avanzate consentitemi alcune brevi considerazioni tutti noi siamo chiamati a misurarci con una situazione di un nuovo complessa problematica aperta con te con un quadro internazionale sempre più segnato dalle politiche imperialiste degli USA e dei loro alleati politiche che propugnano lo sconto tra civiltà tra est ed ovest e che sempre più pongono l'umanità di fronte al rischio di una guerra su larga scala siamo chiamati a misurarsi con un'Unione europea che va consolidandosi all'insegna della cultura liberista imperiale sempre più proiettata sullo scenario internazionale con tutto ciò che ne consegue anche e soprattutto in relazione al ruolo e alla funzione degli stati membri siamo chiamati a misurarsi come un'Italia oggetto nel tempo di profonde trasformazioni sul terreno istituzionale della rappresentanza della rappresentatività della democrazia e che oggi con il carattere costituente del governo Draghi con le litte finanziarie ed economiche direttamente dal governo registra un ulteriore passaggio all'insegna del pensiero unico un'Italia profondamente segnata dalla crisi finanziaria ed economica da tanto tempo in atto e le cui ragioni ci sono note drammaticamente amplificata da quella sanitaria chiamata oggi a misurarsi con una crisi sociale riassumibile in sempre più poveri insicuri soli una crisi sociale che si manifesta anche attraverso la questione del primo passo di cui rilevanti limiti relativamente agli abiti di applicazione alla sua gestione abbiamo opportunamente ed adeguatamente denunciato e che rinvia più in generale a quella dei vaccini a posizioni che in diversi casi sono certamente riconducibili alla scarsa informazione alla confusione che si è generata ma che molto spesso riflette una visione della quale va colta pieno la pericolosità molte di essi infatti sono riconducibili al cosiddetto movimento Novast presente anche prima nella vicenda Covid-19 che dividenziano innanzitutto un carattere arreazionario antiscientifico che resta al fianco quando non è diretta espressione innanzitutto a quelle forze prevalentemente di matrice neofascista che coltivano disegni destabilizzati che già in passato si sono palisati che sono le artifici del grave attacco alla CGL quindi ai lavoratori alla democrazia la crisi in atto non può trovare adeguate risposte nelle politiche imperanti che si prospettano soprattutto per i centri popolari per il mondo del lavoro tanti esempi possibili ciò rinvia alla necessità di un'alternativa un'alternativa ai tuoi contenuti a partire da un diverso modello di sviluppo abbiamo sottolineato a più riprese tanto nel tal riguardo la relazione qui si colloca a nostro avviso la necessità di promuovere la massima unità possibile un processo che superando la frammentazione in atto si propone di edificare le lotte di costruire attorno ad una piattaforma condivisa un fronte volta a spostare i rapporti di forza alla costruzione di un'opposizione di classe di massa nei confronti delle politiche date che si preannunciano qui si colloca la stessa questione del rapporto tra partiti e movimenti tutto ciò chiama in causa soprattutto noi la strada come abbiamo detto a più riprese è tutta in salita è un dato di fatto che anche quest'ultimo attornato elettorale ha confermato la marginalità della sinistra di classe di alternativa assai lontana dal superamento della propria crisi che viene da lontano e che ha ragioni precise essa continua a non essere percepita da tanta parte dell'elettorato del blocco sociale assunto a riferimento come credibile meritevole di consenso è un dato di fatto che nessuna delle formule attraverso le quali la stessa si è presentata al volto è risultata tale da proporsi indiscutibilmente come a dire così come nessuna delle forze politiche che la compongono essi dallo stesso potendo proporsi come vincente certamente non ha aiutato al raggiungimento di un diverso risultato elettorale la frammentazione e la contraddistinta in tanti contesti tutto ciò rinvia alla questione dell'unità noi a partire dai contenuti siamo per la massima unità possibile tra tutte le soggettività presenti nel cosiddetto campo largo della sinistra di classe di alternativa ci misuriamo con le diverse dotture politiche in campo siamo convinti che la discriminazione per un'unità tra comunisti che vanno oltre quella dazione è data dalla sussistenza di una cultura politica omogenea quantomeno affine pena il consegnarsi al dogmatismo al settarismo all'ecletismo che non ci appartengono e che tanto hanno pesato e pesano sulla condizione del nostro campo siamo convinti che l'unità dell'insieme delle forze della sinistra di classe di alternativa non passi attraverso scorciatoi di carattere organizzativo tanto meno elettorale ma ha bisogno di forme che rispettino l'autonomia politica ed organizzativa delle sue diverse componenti anche per questo appartiene da voi da una cultura politica che sentiamo allargamente nostra dalle comuni esperienze unitari vorremmo misurarci con la sfida dell'unità perseguibile fattibile all'altezza del bisogno noi compagni e compagni ci siano e ancora grazie per l'invito e buon lavoro ora diamo la parola Elisabetta Piccolotti di sinistra italiana e poi un saluto Vincenzo dell'associazione rinnovamento della sinistra cari compagni e cari compagne innanzitutto grazie grazie di averci invitati a questo vostro congresso e grazie della passione della cura dell'attivismo e della generosità che ogni giorno mettete a disposizione di battaglie comuni quelle che vedo anche ricordate qua le vostre striscioni quelle per la scuola pubblica per il reddito la sanità l'istruzione l'internazionalismo la solidarietà tra i popoli e le persone non sono qui per fare un discorso che punti semplicemente a strappare la pausa sono qui da compagno a provare a discutere con voi del futuro della sinistra Italia in un momento in cui la sinistra è forse mortalmente una corale esagerata ma gravemente colpita ferita indebolita divisa fino al punto di essere quasi irrilevante nel dibattito pubblico è un problema che non può considerarsi un problema di una sola organizzazione ogni singola organizzazione politica e sociale della sinistra ma un problema di tutte e tutte coloro che credono nella democrazia nel progresso in una possibilità di riscatto e di speranza è per questa ragione che ormai da qualche anno ho deciso di evitare di contribuire ad un dibattito della sinistra che discute sempre e solamente di se stessa che si arrovella sulle distruzioni identitarie sulle tattiche sulle strategie sulle proprie divisioni sulle sfumature dei propri pensieri e produce una gigantesca rappresentazione in cui al cittadino normale la sinistra appare chiusa in una infinita discussione esclusivamente sulla sua cinsi che dura normale da un decente a casa mia c'è una libreria infinita di volume sulla triste della sinistra e penso invece che dovremmo tutti fare lo sforzo di fare qualche passo avanti un passo avanti non nella direzione dell'astrazione delle manipulazioni ma invece nella direzione della prossimità ai misori dei cittadini ai loro desideri alle paure che li animano lo dico perché veniamo da due anni terribili noi non siamo immersi nel pensiero unico della pandemia che pure c'è ma si produce dopo sul livello della politica prima dentro nelle nostre case nei luoghi di lavoro nelle scuole nei luoghi in cui continuiamo noi siamo immersi nel sentimento unico della pandemia e il sentimento unico della pandemia è lo sgomento la paura l'incertezza il disagio che cresce in un mondo che mentre si impoverisce perché la pandemia timora per la propria salute non è anche il poverimento delle condizioni che vorranno di vita mentre si impoverisce sceglie di cercare soluzioni non nella redistribuzione della ricchezza delle vitelle ma invece nel continuo accumulare ricchezza nella riproposizione delle disuguaglianze nell'ampiamento della forbice dei più deboli dei più ricchi le persone di questo paese sanno che dalla pandemia non usciremo più uguali come eravamo prima e sanno anche che non è detto però che si possa uscire migliore più forte più solidale e hanno paura hanno paura che invece si possa uscire peggiori più incattiviti più discriminatori più violenti nei confronti degli ultimi ma date bene non vi ho fatto impressione la canea vergognosa del dibattito sul reddito di cittadinanza non mi fa impressione che Bonomi come se fosse normale di fronte ai dati di tritico che dicono che i due terzi dei percettori del reddito di cittadinanza ha difficoltà psicologiche relazionali relativa alla ricerca di distruzione gravissime che rendono quasi impossibile la ricerca di un lavoro bene di fronte a queste dichiarazioni Bonomi dichiara che se nulla fosse che investire un piatto sul reddito di cittadinanza significa continuare a sperperare il denaro pubblico quanto disprezzo c'è nel paese per la Polonia quanta violenza quanta aggressività e badate bene ogni volta che in Italia si apre uno spiraglio e io so che noi possiamo non essere d'accordo sull'esperienza del 22 ma io credo che fosse uno spiraglio non una soluzione ma uno spiraglio rispetto alle politiche degli ultimi vent'anni ogni volta che in Italia si apre uno spiraglio qualcosa e qualcuno e qualche potere interviene per chiudere la porta interviene per riportare il governo italiano a una sorta di commissariamento tecnocratico che punta a produrre nient'altro che l'eterno ritorno dell'uguaglio l'eterno ritorno delle stesse politiche negli ultimi vent'anni che non hanno risolto alcuni dei problemi di vita e allora badate bene perché dico questo perché io credo sostanzialmente due cose la prima se le persone hanno paura di finire in una condizione sociale ancora più disperata hanno paura per i figli hanno paura di non avere lo sveglio hanno paura di cose molto materiali la nostra risposta non può essere noi di questa verrà paura ci riflettiamo noi dobbiamo entrare in sintonia con questa paura altrimenti oltre alle tantissime scissioni che abbiamo prodotto perché siamo specialisti di scissione finiamo per produrre anche quella ben più grave che il segretario Norvizio Cervo ha indicato nella sua ricca relazione che è la scissione del voto ovvero la scissione fra la persona ciò che pensa ciò che vorrebbe e il voto che esprime ormai in Italia ci sono migliori di persone che da un lato si sono scisse dal proprio vuoto perché non particino e questo disegna un'instabilità all'adente che rende la situazione ancora più o dall'altro si sono scisse dal proprio vuoto nel senso che esattamente come ha detto Norvizio magari pensano che le cose che dice le fondazioni comuniste siano giuste magari pensano se si conoscono che le cose che dice sinistra italiana siano giuste magari pensano che le cose che dice qualsiasi altro partito di sinistra siano giuste ma quando vanno a votare quel voto non lo danno perché temono che quel voto non abbia alcun significato dentro il gioco della propria allora di fronte a questo processo che va da guardate bene ci ha giustamente spianati in dieci anni ogni volta si è verificato e si è verificato quando eravamo in collezione quando non eravamo in collezione si è verificato a tutti i verni noi abbiamo un dovere e io ritengo un atto di generosità di un'ottima origine abbiamo il dovere di misurarci con gli strumenti concreti dell'oggi che possono aiutarci a rafforzare la sinistra e a rendere qualcosa di utile per le persone o almeno ad essere percepita come utile per le persone significa misurarsi con i cambiamenti travolgenti della società contemporanea perché fare politica nel 2021 non è come fare politica nell'89 e non è nemmeno per fare politica nel 2001 per me che sono più giovane e quindi ci vogliono risorse ci vogliono nuove tecnologie ci vogliono nuovi linguaggi ci vuole la capacità di parlare con i ragazzi che stanno su TikTok su Instagram con la modalità con cui loro e dall'altro lato ci vogliono anche percorsi di unità sui temi e per questa ragione che noi abbiamo cominciato e io spero sia un lavoro che possa incrociare anche il vostro una serie di battaglie che hanno a più vedere con i temi sociali e ambientali del paese mentre il governo riduce le tasse alla fascia più alta della popolazione noi raccogliamo il film per la patrimoniale perché diciamo che è venuto il tempo che chi ha risorse paghi per dare istruzione gratuita dagli asili nido all'università ai bambini e alle ragazze e ai ragazzi di questo paese cominciamo una campagna sui salari perché una delle angosce più forti e potenti della nostra gente è l'insufficienza del salario il lavoro povero lo sfruttamento l'impossibilità di arrivare alla fine del mese anche se hai trovato un lavoro non solo se sei sfruttato e allora cominciamo una battaglia per provare ad invertire la lotta e facciamo una battaglia contro il greenwashing lo diceva bene Maurizio per una vera riconversione ecologica dell'economia che significa uscire da un sistema capitalistico predatorio per invece incrociare una ridefinizione a tutto dopo delle finalità dell'economia del progresso dello sviluppo che immaginiamo io penso che su queste battaglie e su tante altre l'utile le civili le battaglie straordinarie delle donne in questi anni le battaglie del movimento intersezionale GLBTQ le battaglie degli studenti che sono andati in piazza moltissime volte le battaglie di tutti coloro che in qualche modo hanno animato in questo deserto hanno tentato di animare un elemento di identità alla società attuale ebbene io credo che su tutte queste battaglie non possiamo fare dei passi insieme e ci darei che li facessimo al di là delle differenze e al di là delle sfumature forse al di là anche delle muscoli un'ultima cosa la voglio dire perché questa acqua io non so se noi siamo una sinistra o una mentale non so nemmeno che cosa sia oggi una mentale che cosa non lo sia se si vada di più farsi vedere oppure non farsi vedere proprio se fosse una mentale ma che almeno ti percepisco mi sembra una discussione che non coglie il punto però guardate bene siccome il nostro obiettivo è impedire che dopo le prossime elezioni ci sia di nuovo un governo da draghi ed è un obiettivo che credo possiamo condividere perché sarebbe una sciagura per l'Italia questa parentesi speriamo che sia una parentesi va chiusa per chiudere una parentesi ci vuole la forza della politica ci vuole una sinistra forte altrimenti la geometria della politica dice che se la sinistra non c'è il partito democratico come in 25 stede le sono naturalmente portati a cercare i propri abriati al centro non c'è niente da fare non basteranno le nostre urla le nostre denunce le nostre indignazioni così andrà quindi l'esistenza o meno della sinistra nelle prossime elezioni decide della natura del governo che verrà e badate bene ci sono tanti modelli c'è il modello Calabrese che è un modello dello straordinario riscatto di compagni e compagni che ce l'hanno messa tutta ma poi ha vinto la destra oppure c'è anche il modello di Bologna dove tanti compagni e compagni si sono messi a disposizione di un progetto di cambiamento e hanno incrociato un terreno possibile il milione di terreni possibili no ma un terreno di pratica in cui una lista di sinistra radicale tra il 27% elegge la più votata nella città di Bologna e conquista ampi pezzi di programma il vice sindaco e forse la prospettiva di cambiamento a cui guarderemo nei prossimi anni con fiducia e con capacità di sperimentazione ecco io non vorrei dire a queste persone che dobbiamo aspettare di avere il 14% per lanciare una sfida a Paese perché le persone Maurizio finiranno per pensare che siccome questo 14% rischia di non arrivare mai nel frattempo per salvaguardare i propri diritti le proprie tutelle per cercare di strappare voi che le possono si devono accontentare del vino peggio e io penso per accontentarsi del vino peggio non sia sempre la soluzione del governo grazie grazie la parola Vincenzo Vita dell'associazione di rinnovamento della sinistra mentre Vincenzo lo aggiunge al microfono vorrei dire che noi abbiamo ancora tanti altri interventi di ospiti perché c'è una certa attenzione a questo nostro congresso e naturalmente ci fa molto piacere vuol dire che al di là dei risultati elettorali comunque la nostra presenza il nostro pensiero interessa anche a molti come si sta dimostrando chiederei quindi a tutti gli interventi a tutte le compagnie e i compagni che ci porteranno il loro contributo di stare quanto più all'interno di tempi stretti ed eventualmente possiamo anche raccogliere come sono arrivati Vincenzo lo dico perché so che tu mi hai chiesto che devi andare via presto e quindi che dovresti parlare mi permette di farlo ora per questo abbiamo ricevuto già alcuni contributi che leggeremo anche domani da in base a stati ad altri che naturalmente pubblicheremo sul sito quindi chiedo a chi deve ancora parlare eventualmente stare a saluto il più possibile all'essenziale ed eventualmente mandarci un contributo al quale siamo molto interessati chiedo scusa ma no ma io non voglio preoccupare la carissima Roma di Nandi potrei dire come faceva la sua intervista con la motocicletta vecchio grande Sergio Zavoli ciclista giro di Tans cosa pensa lei è quello affannato sono contento di essere qui ecco io potrei finire con questa sono contento di essere qui e di aver ascoltato una preziosa relazione di una persona che accompagna Maurizia Cerco che stimo per la passione e la cura che mette in un'attività difficilissima io qui rappresento questo privilegio una situazione per l'arrivo della sinistra che fu immaginata e costruita nel 98 da Dottor Morello e da Dottor Chiarante invece tra l'altro ritorno nel 22 decennale purtroppo ve lo scompasso quella associazione nacque con un'intenzione molto buona e cioè dopo le varie vicende dell'89 dell'ottore fare dialogare mantenere un ponte aperto costruire comunque degli interici ora io dico proprio due parole se non mi contraddire difficile fare il paragone con la situazione di oggi rispetto a quella di allora tuttavia l'associazione e questo volevo depositare come pensiero al congresso e ringrazio per l'indito si mette comunque a disposizione con l'idea di costruire un forum aperto prendendo alla lettera a Maurizio pagina 48 l'ultimo capoverso quando si scrive nel documento commerciale la frattumazione delle identità chiuse non aiutano alla costruzione di spazi di iniziativa unità capaci di parlare al paese soprattutto a chi subisce le conseguenze della crisi e delle politiche delle classi dominanti cioè in sostanza attorno a una ipotesi che si potrebbe costruire delle varie soggettività senza ripetere cose che vi ho sentito bicheggiare basta con questa pantumazione con questo utilizzo ormai fastidiosamente improprie una parola nobilissima cioè comunista nel liste la dispersione la crisi obiettiva della globalizzazione di la l'uomo di l'uomo di la l'uomo di la Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. diritto. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e a 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 tutti. e 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 tutti.